Io ho messo rock Posso capire che non era metal Il rock spazia in cose più tranquille Però, non so Uno che fischietta con un ukulele Non mi sembra rock O sbaglio Io poi non ne capisco troppo di musica Non ne capisco troppo di musica Però adesso No, ma le 200 canzoni di Natale Perché se le metti quelle copyrights Anche per Youtube, sono due Altrimenti sì, sono Non erano 200, neanche, non è vero E alternative Non saprei adesso Boh, ma sicuramente qualcosa di alternativo al rock Se possiamo Un po' blues o rock a b Non saprei, non saprei Non so, non mi avete convinto Amici, c'è un po' di cum Appiccicato agli occhiali Un attimo Aspettate Che se no non riesco a leggere Le sub Eh, è un casino Fu fu Questa pezza ragazzi Guarda Se avessi il link di Amazon Ve la farei comprare A tutti voi Possessori di occhiali Mi ha salvato la vita Aia, c'è un occhio Che mi occhia Aia Bene A posto Adesso ci vedo Uh, ma siete tutti qui Incredibile Lorgio, grazie per la sub Eh? Ciao Beh Scusa Come fai a chiedere all'oracolo Una cosa che Sei solo tu Testa di scemo Vediamo Ho voglia di giappo? Chiede Lorgio Rimanda A posto Vedi, hai fatto bene invece Scusami Scusami Vedo schiuma Eh, scusami Amici Come state? Ciao Belli Ah Oggi Quante cose Che dobbiamo fare Porca miseria Dopo ieri Malle Eh, mi spiace Vecchio Mi è partita la fizz Pium pium Via Tutta Prossima domanda Prima risponde a questa Eh? 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 Eh, mi era sguillata via Mi era partita un attimo Scusate È perché sto così Senza gli occhiali Non è vero In realtà ci vedo Senza gli occhiali Matt, grazie Buona avventura a te Da Chile Grazie Grazie Buongiorno a tutti Buongiorno Oggi non ho aperto L'internet Prima di partire Con il videogioco Fatemi guardare Le ultime news Del mondo videoludico Per cortesemente Ah già Si è Hanno aperto il sito Per le Registrazioni Alla beta Di Overwatch 2 Fa già ridere così Ma se volete ancora più ridere Il sito Non so se oggi va Ma ieri non andava Renato Pozzetto La mia comicità Scroto Beh può darsi che qualcosina Si Alla fine io sono cresciuto Con Pozzetto Paolo Villaggio E Fabio De Luigi Aldo Giovanni Giacomo Quindi sicuramente Qualcosa c'è Sento le 18 Di finire Perché secondo me Per un cacchio proprio Ma vedrai che si Vector Siamo alla fine Non so se si è vista La bombola di Copium Che Un attimo Ha sgasato Verso di me Ovviamente è il PvE Ed è solo il PvP Per ora Sì ma siamo alla fine Ragazzi Alla fine Ma Altre notizie Non c'è niente Non c'è ragazzi Ma Non c'è niente Non c'è niente Non c'è uscita una patch Di 11 giga Di Lost Ark Non è bene Brotti Ma non c'è Niente Effettivamente Bene Vorrà dire Ragazzi Che Oggi Si parta a giocare Eh Dunque Pensando di ricominciare All'Onight Così non uccido Né Myla Né il riparatore E posso Vedere quel bellissimo Segnale sempre giustato Chi era Myla Myla scusa È la È la tizia Col Col Con la grossa Col Com Con l'armona Forse Forse l'uomo Non è così duro Come sembra Esatto Vector Ieri è successo Che Achille Ah la minatrice Non mi ricordo Un cacchio Quella con Della minatrice Ma comunque Dicevo Achille Ieri Dopo Una crisi Con la sua ragazza Con Roderica Una crisi Dove vedeva lei Più dedita Al lavoro Che alla Che alla coppia Stava trascurando Achille Achille È stato Duramente colpito Da questa situazione Che è andato a rifugiarsi Tra le braccia Di Fia Che l'ha ritrovata Alle radici Dell'albero madre Così facendo Abbandonò La La via Dell'aurea Luce Ho aperto la playstation Intanto Fammi vedere Due robe Oh porca miseria What's the sound Ragazzi Sempre caricone Sembra che stai facendo Cronaca Eh beh Quello Sì Le cronache Le ultime cronache Le ultime notice Di Achille Non si fa Perché ogni volta Che avvio Elden Ring Dice La connessione Non è stata Possibile Invece Dopo un po' Sì E su playstation Sempre Aspettate Prima devo fare una cosa Poi vi faccio vedere Eh Porca miseria Altrimenti Non altrimentiamo niente Ecco qua Possiamo 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 eh Intanto Sigla Sigla Lui era la testimonianza Vivente Lui era la testimonianza vivente Dell'infedentato Uno bucerà Finché degli esseri umani Avesse rinvocato aiuto C'era un uomo Sempre pronto a correre In loro soccorso Incurante delle difficoltà Achille Laureo Aspettate Stiamo facendo roba Comunque Pinuozzo La roba I bonsai Me li ha regalati Ed è il kit Easy bonsai Di grow bud Ecco qua Usate Ci vorrebbe Una sigla Per la season 2 Un po' più dark Ma non avrei idea Di come Ne perché Eccoci qua Amici Tra l'altro Ieri sono andato A farmare Un pochino Di Sassi Di Smithingstone 3 L'ho già usata Per potenziarmi La Devo vendere Un po' di armi Per potenziarmi Questa qui La lama gemella Da gargoyle Al 14 Solo che Ancora Non lo so E che non mi convince Un cacchio Grazie Matt E che con un Change Di Achille Cioè Ci potrebbe stare Un respiro Solo che Cioè La katana Su forza Sarebbe Fighissima Sarebbe Solo che Questa qui Che va Su forza Intelligenza E che fanno Split damage Queste armi E io Lo split damage Ma la spada Fa sanguinamente Spada C'è anche Questa spada Qua Quella Sempre del Gargoyle Dov'è? Questa E questa qui Anche questa È forte È uno spadone Non uno spadone Pesante Come i nostri Grazie Mimmo liquid La katana Fa sanguinamento Però È È che fa Split damage Porca miseria È Mimmo liquid Vector Non può essere Una persona Mimmo liquid Benvenutissimo Mimmo liquid Era un bel nome Il fatto Dello Split damage Che sono un sacco Di armi Fanno split damage E che io Non Cioè Quanto ne vale La pena Quanto ne vale La pena Lo split damage Perché io Sono In tutti i souls Ne sono sempre Stato Alla larga Molto bene Mimmo Ne sono Sempre stato Alla larga Perché Lo split damage Come vedete Din Su potenza Attacco Nella colonna Delle statistiche Dell'arma C'è scritto Fisico Fa 112 Di danno Più 38 E Fa un danno Anche magico Che È 72 Più 28 Capito Il discorso Cos'è Cioè Fa due tipi Di danno Fa danno Fisico Quindi quello Base E fa danno Magico Anche In più Al danno Fisico Che Qual è Il Punto Che Il danno Magico Fa Sicuramente Passa Le difese Fisiche Cioè Se uno C'ha uno Scudo 100% Difesa Fisica Para tutto Il danno Fisico Ma il danno Magico Gli passa Qualcosina Perché Non credo Esistano Difese Con il 100% Di difesa Magica Però Di conseguenza Il fatto È che Il danno È splitato Quindi se uno C'ha una difesa Magica Bestiale Vado a perdere Un sacco Di damage Di danno Io La valità Dello split Dipende Dal tipo Di build Se porti Un cavaliere Arcano Lo split Sale Di pari passo Con l'estate Fai una Sbrega Beh Ma io Respeccherei Quindi Ci sta Però È il discorso Di È il fatto Che Lo split Damage Il danno Fatto Con un altro Elemento L'ho sempre Visto Come Situazionale Al nemico Che hai Di fronte Il danno Fisico Va bene Contro Tutti i nemici In teoria No Tecnicamente Il danno Fisico Va bene Contro Tutti i nemici Mentre Gli altri Magari Il danno Sacro Va bene Contro Quei nemici Lì Il danno Da fulmine Va bene Contro Quegli altri Nemici E così Quindi È sempre Un po' Situazionale Come fai Sì Per usarla Al meglio Dovrei Sicuramente Splittare Le mie Caratteristiche Investendo Anche in Intelligenza È esatto Il fatto è che Non mi piace Avere Cioè Mi piace Cioè Io uso Il danno Raw Il danno Fisico Normale Perché Non voglio Stare lì Cioè Non è Monster Hunter Che voglio Usare una Build Specifica Per ogni Nemico No Però Oggi Ragazzi Abbiamo da fare Un sacco Di roba Ma Botto Grazie Bosco Sei fatto partire Il treno Ci sono anche Molti nemici Che hanno Difesa Fisica Alta Certo Però Nel complesso Lo split damage Non è situazionale Una cosa In più Che è sull'arma Anche danno fisico Diminuto Dalla caratteristica Dell'avversario Sì Però se investi Tutto sul danno Fisico Sei a posto Mentre Lo split damage Non è Situazionale Non è Non è vero Che è una cosa In più Che è sull'arma Perché se Un'arma Fisica Metti A 100 Di danno Se fosse Magica Per dire Non ha 100 Di danno Più 50 Di danno Magico Ma il danno Fisico Delle armi Con split damage È molto Ridotto Perché altrimenti Sarebbe OP Come cosa Grazie Slappy Vorresti dire Una cosa Teorizzata Dalla frase Del fabbro Di ieri Di Illadin Ieri il fabbro Quando ci siamo Avvicinati Ha detto Stava sicuramente Parlando del fatto Che stava Cercando di Forgiare Un'arma Deicida Un'arma Per distruggere Un qualche dio Perché lui È Scettico Contro Lui Probabilmente O L'uccidere Le due dita Boh Ad esempio Con un'arma Split Fuoco Facevi Meglio Il 90% Del gioco A parte Il demone Del fuoco È vero Maxer Però Appunto Cioè Non sappiamo Neanche Chi Ci troveremo Davanti Quando ti abbia Farmato Abbia potenziato Le armi Il pg Ci sarà Sempre Un zone In cui Ti appare Ma guarda Per adesso Sam Spacchiamo I culi Comunque Intanto Io direi Intanto Che possiamo Andare qua Così ci chiudiamo Questa roba Il tizio Che ti ha chiesto Sì E Val Re Ci ha detto Di Morg Però Il nome Che abbiamo sentito Ieri Non era Morg Ma era Morgwin E non credo Che Morg Sia il diminutivo Di Morgwin Conviene Con le caratteristiche Alte Puoi potenziare Molto Che ti permette Di avere una chance In più Per fare danno Sì Andavata Per adesso Siamo qua Ieri Ho farmicchiato Un pochino Qui Senza Esplorare Troppo Di quello Che abbiamo Esplorato In live Ieri Ci mancano Qua Uno Due Tre Quattro E mappe Da sbloccare Ancora Però intanto Mettiamo il piedistallo Di Mussolini Qui la statuetta Di Mussolini Eccola qui Esatto Diminutivi Non ce ne sono Come pensavamo Che Renna Fosse il diminutivo Di Rennala Ma Eravamo scettici E infatti Non era Il diminutivo Ma dipende Samael Per come Siamo messi Noi Dubito Ci spacchi Il culo Qualcosa Però È una Build Specifica Proprio Per spaccare Il gioco La nostra Praticamente Abbiamo girato La torre In teoria Qua Andiamo a vedere In realtà Nella scena iniziale Il fabbro Prima è maschio Poi è donna Non mi pare Proprio Ma che figata Si è proprio Girata Tutta Scendo qua Così Scendo Si No ma Le mani Eh Non fare il pezzo Di merda Fammi vedere Intorno Prima Chi è Chi è Barbutus Buongiorno signora Achille Ma mica Ma sa mica Che ore sono Ah mi sta Mi mando Le 12 e 30 Con le sue spadone Prego Prego No sono le 12 e 30 Con lo spadone Comunque Pezzo di merda Non mi Arca bestia Mi piunta Ah scemo Di pelle Ah qua Qua E proprio Sotto sopra Sì ma L'avevamo visto Che si girava Tutto Una certa Ah è una Orca bestia Miriam No Non è caduta Bene Però adesso Si alza E cade Esatto No Vabbè Me Prevedo un sacco Di incastramenti Qua ragazzi Ma non è quella È la stessa Di ieri Cioè la stessa Non Quando è che l'abbiamo fatta Sta torre Non era ieri Dove cazzo ha sparato Era sempre Miriam Mamma mia Sti ditoni Che toccacciano Tutto Tocacciano Da te Bonnie Allora È vestita Tra l'altro Come Silvius No Mi ha fatto L'animazione Del backstab Ma non mi ha fatto Un cazzo Di backstab Però Puttana Aspetta Affanculo Tutti E ne arriva un altro E basta Che c'ho da fare Porca miseria Oh Si è perso L'azzicamento Della statuina Sì Affanculo Meretrice Miriam Lucidità Tra l'altro abbiamo maxato La cenere Della lacrima E quindi adesso Ci abbiamo Il double a kill E maxato Potrei Fare anche così Proviamo L'ho potenziata Al più 14 Vediamo un po' Come si è ammessi Così Proviamo a giocarcela Un po' Sicuramente Il danno è ridotto Anche perché Non siamo Con tutte e due Perché mi piacerebbe Tornare a usare Solo un'arma Il problema Il problema Delle due Di due armi E che vai a finire Per utilizzare La stessa mossa Sempre Quindi si impara A giocare Veramente E' vero Il problema E' che con le due armi Poi capirai In elder ring Con il Con l'attacco in salto Con l'attacco in salto Sfondi praticamente tutto Ok Devo andare qua Stavo un attimo Esplorando Anche se No Devo andare lì Devo andare Ah Non vado da nessuna parte Non ci arrivo mica No Che è che fa Tricchi trichi Che sento I movimenti Di ma gambe Ah ma ci sono gli oggetti Anche sotto Soperizzati Ci hanno persi Niente Qua sopra No Qua sotto Ce ne sono due C'è Isto E questo qua Fegato Isiccato Sconsacrato O bistellato No Per ora sappiamo Sicuramente Al 25 Din Perché Il potenziamento Delle armi Per adesso Abbiamo la Pietra forgiatura 8 Che ci fa Rinforza armamenti Al più 24 Però è la 8 Perché qui Quelle da forgiatura Funere Vanno fino a 9 E ci sarà sicuramente La 10 Che porta a 10 Quelle armi speciali Arriveranno a più 10 Questa qua Da forgiatura Che arriva A più 24 Ci sarà Fino al 30 Oppure dopo C'è subito Questo è fino al 24 E poi per il 25 C'è tipo la lastra E la porta al 25 Del massimo Boh Vedremo Fatemi vedere Questo Tittis No no Sono sotto sopra Praticamente Ma lo apro al contrario Porca bestia Una Ketzin Eh ma poi Pinozzo La build Ne risente Così Sono già Luca Ma sì Ma guarda Che hanno fatto la Ketzin Solo perché Non sapevano come fare da fuori Tutto al contrario Ma tra l'altro Qui sotto c'è ancora Quell'enigma Della strada Che non c'è Che porta La sotto Messaggio valutato E vai Cosa fa il messaggio valutato Piccoli escamotage Tecnici Sì Frammento di rovine Perché ci sono Dei frammenti di rovine Qui E' un uomo di pelle Porca bestia Orca bestia Aspetta E' un uomo di pelle No basta Questa qui E' proprio Un'inculata Sto fuoco No Il frammento di rovine Non mi cura Che fai? Porca bestia Mi brucia Ma guarda E' diventato budellone Uh uh Ma pure la panzata Bellissimo Sto nemico Comunque Poiché è fatto Tutto di pelle Ahia Dai Gli ho fatto Il pure 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 Finito le cure Vedi che Senza gli spadoni Ha fatto una roba Incazzatissima Mi ha fatto Mi sa che bisogna Schivarlo D'altra parte Iniziano le disfatte Di Achille Così a pelle Direi che è abbastanza Forza Bravi Bravi Sì Posso mettere Un'armatura Allora Achille Dovrebbe solo indossare Guanti e gambali Di armatura Va bene quella che c'ha Sopra Se no non si vede il pettorale No ma per danno era meglio Proviamo Visto che con questo Gli scudi Sono inutili Cioè In realtà lo potrei anche usare Che non sono abituato a fare Le robe con gli scudi Se non per i perri E che quest'altra Non è Non è potenziata No vieni qua vieni Io lì non ci vengo Ma Teo Dai vieni qua E adesso rotola Però lo schivo a destra Ma come cazzo si schiva Questo che rotola Comunque Mortacci tua Oh ma è la mossa Che c'ho io Questa Eh Non gli fa una sega Non gli fa Lo posso zazzare Vediamo Ah Glielo fa L'assideramento Però Finchia Non è male L'assideramento Per niente Che figura di sangue E vanculo Questo bisogna rotolarlo attraverso Eh però Eh però ritorna Cioè finchè non ti colpisce Ti inculi Sarebbe bello Non ucciderlo E riprovarlo Con gli spadoni Anche se ormai Anche se ormai E buco E buco Ci avrà la stessa Descrizione dell'altro No Il grasso Il grasso sotto Lo rende soffice Imbottita Indossata dai nobili Per i loro Parametri Per i loro Paramenti Paramenti a sette facce Che schifo C'ha sette facce davanti In effetti Potenza E gli incantesimi Della nobile presenza Noi sono Gli apostoli primigeni Che sembrano aver assimilato Una fisiologia inumana In modo non dissimile Dal crogiolo Il primo albero madre Il crogiolo E il primo albero madre Sta roba è incredibile No Non la metto Fu uomo di panza Fu uomo di sostanza I nobili sono Gli apostoli primigeni Che sembrano aver assimilato Una fisiologia inumana In modo simile Al crogiolo Il primo albero madre Lo sapevi già Ci sta scritto nell'arma droppata Dal tizio ieri E la roba Che ci sono più alberi madri Non mi pare Di averla mai letta Tra l'altro Ho riesplorato un po' Anche La città eterna E ho trovato Il martellone liquido Non è male Neanche come Arma a forza Però è un po' A me come musset Non mi piace troppo E che come damage output Credo non ci sia Niente Di meglio Dei nostri spadoni Perché anche questo C'ha split damage Split damage Questo No Però credo sia comunque Miglior la nostra Riparate Quando hai bisogno Mosaico Dei campioni Noi barbutus Per carità Non ci stiamo neanche Capendo troppo Però a grandi linee Quello che è successo Sì Direi che il crogiolo È il punto di impatto Della prima cometa Che in realtà È il seme Da cui è nato Il primo albero madre Però il primo albero madre Cosa vuol dire? Che se ne sono altri? O intende Quello dorato grosso E non gli alberi madre Minori Anche sì O lo pensavo Di stare solo Con uno spadone Quasi Il primo Quello originale È Ma quello originale Qual è quindi? Quello grande Cioè Quello L'altro da qui È la prima volta Che lo vediamo Offuscato così È la prima volta Che lo vediamo Con sta nebbia scura Cos'è sta nebbia scura? Fammi andare a Riposare al falò Prima va Esatto Esatto Forse il primo albero madre Intende Quello grosso Però Perché Cioè È la prima volta Che leggiamo Il primo albero madre E' la prima volta con qualcosa di sconosciuto ed era denominato crogiolo e si cioè avevamo letto della era questa la descrizione aspettate, era quella del del miracolone quest molto tempo fa secondo la leggenda la volontà superiore inviò nell'interregno una cometa dorata in cui dimorava una bestia in tal modo ebbe origine l'anello ancestrale no, non era questo però questo è quello che ha e se fosse che l'anello cioè è come la vita no? come se il crogiolo fosse l'ovulo e la cometa dorata fosse lo spermatozoo che ha inseminato l'ovulo e ha dato vita all'albero madre anche se ricordiamoci che la vita c'era comunque prima dell'albero madre però eh Vector quello ci ho pensato anche io ci ho pensato ieri come se fossero le dita di un essere is this an evangelion reference tantissimo infatti sembra evangelion con il con i co con lillite adam cioè non non escludo neanche che la bestia possa essere marica perché per adesso non è mai stata descritta come una bestia in alcuna maniera anzi è sempre stata colei che ha dato la vita a tutti sono tutti discendenti di marica un sacco di robe qua non ci sono le dita non ci sono le dita e questo qui è il corpo di renna? aspetta no mi sembrava questo mi sembrava però no non c'entra niente marchio maledetto ci meglio dell'astrologa aumenterà l'intelligenza questo è il grafo pugnale marchio maledetto marchio maledetto inciso sulle antiche carni di ranni la strega noto anche come lo squarcio semicircolare del millepiedi questo marchio maledetto fu inciso alla morte del primo semidio infatti anche nella cazzin dove si vede che uccidono nella notte dei neri coltelli godfrey ci so c'è questo quando c'ha il coltello piantato nella schiena e c'ha questo marchio fatto con quel pugnale poiché morirono due semidei contemporaneamente tuttavia il marchio si spezzò in due semicerchi ranni fu la prima dei semidei a morire nel corpo mentre il principe della morte morì solo nell'anima però il principe della morte è godwin che è morto solo nell'anima quindi il suo corpo è ancora vivo a parte che mi sto confondendo sempre con godfrey e godwin godfrey è quello che è morto però è morto solo nell'anima ecco perché quindi adesso che abbiamo il marchio della morte manu viene già caricata tutta nel canale secondario su youtube non montata voglio andare da da fia trono del principe della morte ma quindi quello lì è godwin avevo preso anche il cimelio leggiamolo cimelio il dell'astrologa la giovane astrologa passeggiava con lo sguardo rivolto al cielo notturno ogni passo del suo lungo viaggio aveva avvicinata alle stelle l'aveva avvicinata alle stelle finché non incontrò la luna piena fu allora che l'astrologa divenne regina cioè se questo qui è godwin no eh è questa la quest di ranni scusami cioè la quest di ranni adesso dovrei andare a parlare con easy forse non vedo perché debba essere godwin e non lo so è il trono del principe della morte il principe della morte è godwin con a fianco fia stai zitto google eh questo è lo stesso essere che sta sotto gran tempesta si albero madre come una nella sua forma originaria ok quindi il crogiolo era la forma il seme insomma si se non è il primo albero madre ma è l'albero madre inizialmente ecco dove l'ho eletto ho dedotto che godwin è il principe della morte non ce l'ha detto fia non ce l'ha detto fia che godwin è il principe della morte scusate proviamo ad andare a parlare con easy c'è i due parla lui ah no dovremmo continuare di sotto con ranni è vero dovremmo continuare qua eh perché sono interessato adesso che abbiamo preso il marchio della morte sì la bambola la bambola non ce l'abbiamo più se è spenta questa è tutta marcescienza in teoria però ci potranno andare col cavallo sono andato da fia e non ci ho parlato ci avete ragione mappa dell'acutrescente vabbè almeno intanto qui abbiamo questo vero fatemi andare a parlare fatemi fare le cose per cortesia fatemi eh insomma dai no volevo vedere vabbè qua sopra non ce l'ho la mappa ok che godwin è il principe della morte l'hai letto nel marchio millepiede che cazzo è il marchio millepiede mo non mi ricordo più niente scusa non è questo il marchio maledetto non è un marchio millepiede chiuse nel non amuleto un amuleto eh si intendevo quello ma non c'è scritto che è godwin lì l'abbia letto ma il marchio millepiede come ho fatto a leggerlo una volta perdonatemi no a me mi sa che me l'aveva detto lei che eh almeno ce l'aveva fatto intendere che godwin è il principe della morte secondo me non ci dice un gazzo di nuovo ci rida sta benedizione del mer ah gli ho consegnato lo sagromarchio ok vedi anche qui ce lo ridice ma me lo stai già facendo di più motorboat del baldacchino lucente addirittura addirittura mia signora per concepire mia figlia la runa la caga si lei era la sposa di morte per incrementare brevemente la stabilità però me lo farà di più si dice che una compagna la compagna di morte la chiamano impartiscono insieme una volta nella vita e che sia l'unica che pronuncia la sua volontà non ci dice un cazzo non ci dice tanto questa la usiamo che mi sta sulle palle poi tanto si chi ha preso un altro ha preso un altro che ha il tizio che ha il tizio che si era addormentato ma un pensierino al fabbro di chi oh è vero fatemi scusate faccio avanti e indietro che magari penso si levi solo di culo a meno che allora chissà no è sempre qui però vediamo adesso che abbiamo ricaricato l'area no dovrò andare avanti in qualche altra maniera però adesso mi riabbraccia mi ridà sta cazzo di eh questo è un addio but I am satisfied I choose to lie with Godwin of my own will not the remains of one chosen for me and I will bear a child who will inherit your warmth too what greater blessing could there be but to be born a deathbed companion this is good but I am satisfied I choose to lie with Godwin of my own will and I will bear a child who will inherit your warmth too what greater blessing could there be ah quindi eh ah ah più o meno un po' di sesso l'abbiamo fatto allora effettivamente questo è il trono di Godwin almeno così si chiama questo posto però allora adesso mi è venuto in mente Godwin non è insacchettato da un'altra parte il suo corpo non è dove dobbiamo andare a prendere l'altro pezzo del medaglione che ci aveva detto la tizia cioè qualcuno ci aveva detto che era lì forse perché mi ricordo sta roba non posso usare il cavallo e quindi se non posso usare il cavallo come cazzo faccio qua mi marcio no qual è questo devo mettere l'immunità è quella per la marciscienza e facciamo a così allora una la magno comunque che mi aumenta comunque l'immunità credo hopper la lai e niente vabbè fa un male bestiale buona grazie obessan no achille non ti devi sedere devi guardare con il binoculo non so se lì è una grotta o cosa non ci resta che piangere ragazzi corro no è solo un buco è stanco anche lui ma abbiamo solo appena iniziato com'è stanco anche lui fermi ci sono dei nemici no basta avete già rotto i goglioni ok è zitto vabbè ma chi se ne frega di sti scemi perdonatemi eh più avanti distruzione eh delle palle no no dai Miyazaki ma cioè fare queste zone hai proprio eh il kink dell'essere stronzo eh il lago di marce stronzio mi devi rompere i coglioni cioè non bastava solo un dito nel culo tutta la mano ci dobbiamo mettere tutta la mano ci doveva infilare Miyazaki dentro il mio oretto ma si può le due dita perché sono quelle che hai nel culo maledetto Miyazaki ah dobbiamo accendere i pipini qui ci sono i pulsanti nooo Miyazaki sei geniale quindi quello che c'era all'inizio mi avrebbe fallicilitato tutto che ce n'era uno qui a destra noi siamo andati a sinistra vedi eh che in realtà è un gran birbante Miyazaki figurati morca bestia figurati se ti fa bagnare i piedini così e basta e comunque sei uno stronzo c'è poco da fare ah 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 ma lì c'è una roba niente aspettate va bisogna farlo eh anche laggiù c'è una roba bisogna farlo che schifo c'è più niente c'è più niente ecco ma porca putta ma ma mi avesse dato un calcio nelle palle guarda più contento sarei stato però l'abbiamo già premuto sì andiamo di qua dai allora allora e pensa se c'è un boss da combattere così nooo 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 affangulo eh arruba basta eh ah là c'è un boss da combattere così aspetta allora prima vado a premere i pulsantoni già che sono smerdellato va è un manone ah no è uno di quelli draghi io lo devo battere qui mia zaki mortacci tua anche a me sembrava un piede sì allora adesso tu vieni qua e non mi rompi i coglioni eh vieni qua subito aspetta ma stronzo ma che bastardo adesso resiste alla marcescenza mica tanto eh non mi sembrava così eh ma non vi preoccupate adesso easy eh fino lì chissà se finisco i boli marcescenti poi come me la prendo nel deretano andiamo fino là cercando di prendere il meno danno possibile non non può scendere così poco veloce prega niente andiamo qui qui adesso ci penso io a batterlo ragazzi no non è vero vec beh che riciclano i boss si poi che siano contestualizzati ma signor quello mi muore subito mi muore non subisce la marcescenza lui vecqua mi ha quasi one shottato ah no perché minchia non mi ero curato porca miseria no altro Achille vi è qua per favore vi è qua dai che faccio le figure cioè non posso venire a combattere vabbè vai Achille bravo fortissimo Achille oh vi è qua vi è qua dai che lo attacco pure io via via no che ti inzuppi le gambalini no c'ho la marcescenza mi sono pucciato le cose spada dragonesca Achille basta abbiamo fatto eh cosa è sembrava una katana sembrava eccola katana dc peccato che Achille sempre nel dere affilando affilando una scaglia di breccia quindi una scaglia di drago antico presunta fonte dell'immortalità dei draghi antichi fino a ricavarne una lama immacolata purtroppo i soldati draconidi non conquistarono mai l'immortalità e perirono come pallide decrepite imitazioni dei loro simili celesti mi sa l'arangialetta però sta roba è una catania sì allora noi in teoria dovremmo andare di là però nulla ci vieta di diventare dei pezzi di merda no us ah l'abbiamo già premuto qui ci siamo già stati ci siamo già stati non avevamo visto il pirla qui di fianco però lì davanti c'è del segreto noi per andare avanti mi sa che dobbiamo andare di là sì Achille Ghost è comunque veramente distruttivo vabbè vabbè fa un culo la marcescenza che vuoi che sia lì dentro è pieno di infami bastardi il naso mi pizzica veramente veramente solo del Miyazaki merda qui però hai capito quel bastardo eh così impari hai capito orca puttana porca Achille costa uno spiro per te non può neanche essere sconfitto dall'unico vero nemico di Achille la gravità ma non c'è un cazzo qua sopra dove sto andando io sto esplorando perché dici eh figa c'è vuoi che non c'è niente invece c'era tanto fammi vedere ah guarda un Achille come me e poi si va dall'altra parte corona fungina il l'elmo di Xanthus praticamente dove ficca è qua una citazione anche a The Last of Us se vogliamo proprio metterla così parassita micotico che ha infestato un intero corpo queste colonie di fumi formano un impotente copricapo incrementa la potenza d'attacco quando si verifica un avvelenamento una marcescienza nelle vicinanze un tempo antichi lord servivano la marcescienza ed è possibile che queste formazioni fungessero da corone antichi lord e c'erano lord ancora prima di perché la marcescienza che c'è qua secondo me è proprio del mondo cioè non è una cosa nata come pentimento per non aver seguito le divinità non posso teletrasforzarmi c'è un oggetto di fianco alla struttura che sale oh no ragazzi adesso devo andare a rivedere alla porca miseria vabbè buono quindi non serve che sia avvelenato tu ma anche il nemico ah non l'avevo notata quella cosa lì così dice se così è fighissima come roba è terribile il cappello fa schifo però è fighissimo un effetto facciamo così va sì senza bolli ci sono anche gli incantesimi per togliere le robe però comunque sto parlando su forza ma a parte che abbiamo sale di 3 adesso quindi un po' sta cappando Achille è stupido non sa usare la magia no è stupido ma strategico zitterane non rompete le palle che oggi Achille gli girano i cojones quanto è di forza 48 adesso ma perché non so cos'altro aumentare mo' No 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 Noi con quel pulsante lì che cazzo abbiamo alzato? Ste Ti piselli che non ci ho guardato E ti pareva che non bastava Mortacci tua Il primo softcap è 55 Forza ma non mi pare Prima saliva di 4 la forza Adesso è salito di 3 Magari è solo un caso adesso Perché non è che sale precisamente di 4 Ma sale per dire di 3 virgola qualcosa Quindi può essere Là c'è un altro più lussante Devo andarlo a cicciaccare Si può usare torrent? No Altrimenti era fatta Ah Ah Ho capito Ho capito Questa è da buttare giù o sale e basta? No Però qua giù c'è una Uno scarafazio lo sento I softcap sono a numeri folli Ma perché il gioco è Molto più lungo Di un souls normale Perché anche qui Sei un infame de merda E Miyazaki Fattelo dire Uno stronzone Con i piedi grandi Niente torrent Solo download di reti Niente peer to peer È più facile Farmare I livelli Sì Le Una cosa che ho notato Invece Che secondo me È un mezzo Peccato Le Pietre da forgiatura Non sono così tanto Farmabili Cioè Poi più avanti Puoi trovare i globici neri Da dare alla tizia Per poi comprarli Però sono molto avanti Sì Spada del campione di alabastro Che figa Una spadone Che va su intelligenza Chiaro Split damage Va fanculo Ma sembra un dildo Spadone forgiato Usando un metallo bianco Bluastro Meteorico La lama intrisa Di un potere In grado di manipolare La gravità Arma esclusiva Dei campioni Di alabastro Un'antica razza Con la pelle dura Come la roccia Che viene Che viene alla luce In tempi remoti Quando una meteora Colpì la terra Sono alieni No Non è una One Piece reference Eh ne ho visti Un sacco di dildi Cosa ne pensi Delle dual wield In Elder Ring Sono meglio Degli altri souls Assolutamente Sì Sono meglio Degli altri souls Però Potrebbero Stuccare Dopo un po' Perché finisci Sempre per fare Almeno dipende Dal Dal dual wield Che vai a fare Ok c'era solo questo Perché io vado a finire Per fare sempre L'attacco in salto Ma in realtà È l'attacco in salto Che è un pochino Un problema Un mezzo problema Su Elden Perché è talmente forte Che Vai a finire Di spammare Solo quello Quasi Sarà la stessa Meteora dell'albero Boh Non è detto Perché di meteore Secondo me Ne sono cadute parecchie Andiamo In realtà Il talismano Che farà i grandi botti Per l'attacco in salto Dici Sì Però Un sacco E robe Qua si andrà avanti Quindi andiamo Prima a destra Grazie Uno Uno me ne ha dato Quello lì era Miyazaki E quello lì Morto per terra Quello lì per terra Era Miyazaki E ci ha dato solo Un bolo Secondo spadone Me l'hanno passato Me l'ha passato Ho evocato E me l'ha passato Ricettario 22 Nomade 22 Mi fa fare I boli gratis Vaso di putridume Grasso marcescente Grasso marcescente Con le gacce Peccato Ci posso trovare un difetto Le due non te lo permette di fare Con due armi di diversa tipologia Ma per forza Ma non è un difetto Sarebbe stato Cioè da programmare Sarebbe stato Cioè immaginati Una dual wield Con da una parte N'alabarda E dall'altra parte Il pugnale Che cazzo di combo Gli puoi fare E poi Averbero dovuto Programmare Infinite animazioni Cioè non aveva senso Cioè non è un difetto È È giusto così Non so se ci sono Dual wield Nascoste Tipo Katana e Wakizashi Mi sono Spuzzellato Di qui Diretso le scale Ma Pss Facile far le scale Che paura C'era il cambio di inquadratura Sembrava quella Di quando Muori Sì no Di Wakizashi Anch'io l'ho trovata Però la Wakizashi È nei È nei pugnali Su Dark Souls 2 Lo potevi fare Avevano tutte le stesse Animazioni Però esatto E faceva un po' Caccare Preferivo comunque Quello Piuttosto che Su Dark Souls 3 Che le armi dual Sono solo Certi tipi Eh la Wakizashi Perché la Wakizashi È Farò la provata Non ricordo se funziona Come dual Sì quella Sì Ah vedi Quindi ci sono Delle Dual Nascoste Credo solo La Wakizashi Però Perché è palese Dai Dammi i segretini Eh Miyazaki I segretini Grande Inchiostro Inchiostro Per le penne Di colore rosso Per Evidenziare Gli errori Degli alunni Questa è tutta una metafora Grazie Fu class Luna aurea In ogni gioco Ma Va bene Se non è Cioè Se il crafting È questo Perché questo È un falso crafting Come anche Quello di Horizon No È un finto crafting Nel senso Non è il crafting Per fare le armi Per fare le cose No È per fare i consumabili Quelli che ti servono Per Per andare Anche quello Anche quello di Pokémon Leggente Arceus È un finto crafting Cioè È per i consumabili Dove cazzo Mi devo buttare Scusate Lì sotto C'è un Mille piedi Esatto No Torno indietro Si può fare Mique Poi Capirai Se ce ne C'è Il bisogno Eh Allora Ci sono Sti esseri Di Diarrea Schifida Che adesso Gli spacchiamo La faccia E non droppare Ah grazie Hai droppato Grande chiostro Speriamo Speriamo Non sia Così tanto Grande Che io Oggi Voglio Esplorare Il mondo Il mondo È mio Piri 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 È veramente Della diarrea Schifida Vedete Io adesso Vado là Mi immerdo E torno Alla grazia Qui di sopra Perché non ho Craftato Altri Dick Oh shit Cosa accade Pietro Che dottorase Grazie Vale che l'ha regalato Alla principessa Jasmine Questa Questa roba Questa Come si chiama Subscription Posso sputargli Da quassù Fallo spawnare Gli sputo Sulla testa E che dietro Lì Eh C'è dietro Una cascata È uscito Lo stronzo Dal cesso Letteralmente Sì No C'è là Con ste cascate Miyazaki Poi è acqua Proprio di Mestro Quello è un altro No è una statua Questa Sì È la statua Della donna Con No è un uomo Si capisce Una segue qua Eh Si capisce Più un Chezza E che qui I bolli Gli ho finiti Da fare Eh Quattro Ne rimangono Ora Noi possiamo Provare anche A spaccare Quel Quel merda Perché quelli Lì Droppano I semi C'è quei mostri Lì Arca bestia I cosi ulcerati Quelli nascono Dai semi A sto punto Semi Ehi signore Vieni qua Vie qua Bastardo Vie qua E devo spaccare La fazia Ora Quali sono gli ingredienti Per fare Sti boli Il bocciolo Rituale Molto difficile Da reperire Per davvero A differenza Del giglio Di trina Però vieni qua A combattere Che altrimenti La fanculo Fammi bere Ok Ma preso Il merda Adesso fa il fuoco Mi marcia Che maledetto Bastardo Questo maledetto Bastardo Dobbiamo fare Anche perché Ci da una fiasca In più Ci abbiamo già Tre semi Se ci da un altro Seme Ci abbiamo Una fiasca In più Ma Probabile Di sì Bacco Cioè In teoria Respawn A tutto Forse Qualcosa Ci mette Qualche Caricamento Di più A respawnare Però Dovrebbe Respawnare Tutto Quanti cazze Siete Allora Voi venite qua Perché Poi Mi venite A rompere Le palle Questi qui Prima che arrivano E mi rompono Le palle In mezzo Alla Battaglia M'ha visto M'ha fatto Ma HollowD E' morto Ma tu Stai là Mi interessa A sto Punto Visto Visto Che Della Marcescenza E Ci rimettiamo Il potenziamento Per gli attacchi In salso Ci potenziamo Già Mo Non so Usiamo Questa Solo che Non ho capito Perché Quest'idea Delle palle Di farlo Che ti parte Che si deve Scaricare Lì La pila La battery E' uno schiaffone Già Bagger Pezzo di sterco Oh Non ci arrivo Ma che Capocciata Anale Ah Basta Eh Non posso Vedere Adesso Sono Concentratico Uh Che Lissio Non potevo Rollare Noi Alla Stamia Grazie Shakur E mi Marcescenta Pure Questo Eh E muori Rompicoglioni Insomma Non sei mai stannato Comunque Seme 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 d'orzo Possiamo farci una fiasca in più Tu sei stato a guardare Bravo Bravo Sei stato a guardare Complimenti Le mie caratteristiche Abbiamo incontrato un altro Un altro Da qualche altra parte di merda Che l'abbiamo Rushato Nella live di ieri Nella parte delle radici forse Ma che stronzi Bravi Mettetevi vicini Vicini Niente Peccato Non mi pare Io mi ricordo Di uno Che l'abbiamo Rushato Cazzo Non mi ricordo Dov'era C'è una barra No Quello sotto Gran Tempesta L'ho fatto Intendo ieri Tipo Cioè Mi pare proprio ieri Tra l'altro Hanno delle manine piccole Hanno le ditina Piccole Guarda le manine Hanno le manine Hanno E' vero che gli incantesi Mi possono richiedere Più slot di armonizzazione C'ho pensato Entra nel sarchiofago Non è questo il momento Ah si era bugato L'avevo ucciso E' vero E' vero Cosa è biru biru Non è ancora il momento Di Gardalan No Ah Sono rassicurato Offri caravecchia Eh Aculeo Dello scorpione E' uno pugnale Sono un botto di pugnali Però Ah no E' che c'ho Un botto effettivamente Di pugnali Io Pugnale Tenuto nella cosa Di uno scorpione gigante Impregnato di marcescenza scarlatta Strumento cimoniale Usato dagli eretici E' ricavato dalla reliquia Di una divinità E' esterna E' una divinità esterna E' in esilio Ricavato dalla reliquia Di una divinità esterna E' in esilio Lo scorpione E' una divinità esterna E' una divinità Ma l'altro c'ha un lupo Nel Nel manico E' un pugnale peloso Bello Cosa di uno scorpione Sì la marcescenza Non è male come Dot Ma marica Non è uno scorpione Slurp dentro il Fiume Qui Dentro il Eh? Fiume Adesso Mi esce fuori Che sono morto Un Miyazaki Che mi fa il dito medio Ma io qui ci sono già stato Però adesso Guarda che bello Che è Una barra di pietra Da mille tonnellate Caduta A mille chilometri Di profondità Cosa accade? No Non so Ah però E' solo questo Scusa Maschi Ma che strada ho fatto Sono veramente 2000 chilometri Qui eh Super boss Segreto della vita E' scomparso il fiume rosso Sì perché sono andato via Nell'altra parte Eh sarà Cioè ho fatto 7 chilometri di strada C'è del pulvistico Anale E' una boss Fuck Bella grossa Lo so Dove siamo E' solo le arene Del pronostica Vec Ma io non c'ho le fiasche Però Non pronosticare Aspetta Facciamo Perché non c'ho le Pronostica lo stesso Vai Cioè abbiamo Queste fiasche Qui abbiamo Comunque E' l'arena Degli Degli spiriti Ancestrali 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 Aspetto la fine Perché Si vale Si vede L'hai pronosticato Contro Purca Troia Uh Vai Double Eccles Ma è Bloody Born Qui Astel Progenie Del Vuoto E' fighissimo Porca vacca Porca merda Ma quanti tick fai Bastardo Ah fa volare Tutto in alto Però qui Lo posso E quando lo attacco Non so Quando attaccarlo Adesso mi fa Adesso mi fa la Matteo Ora No Sì ma Gli ho potuto Sì ma gli ho potuto dare Un mezzo colpo Aia Pensavo peggio Pensavo fossi più vicino Aspetta Arca bestia Ha tirato uno Saffone stellare Che figata Però Urca bestia Allora ho trovato L'armageddon Nelle casse No E lo Sabevo Oh eh Non lo posso Vai First try Con poche fiasche Boys Double a kill For the win Rimembranza Della progenie Scacco matto Dei trattori Ah Eh Ah non Ah Io so cosa c'è dietro Quindi voto contro Pipipipipipi Voi Miscredenti Eh Che non credete Nel potere Del vero uomo Dell'uomo Che tutto può Dimmi Ma me ne hai fatto Un piattino Me ne hai fatto Però 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 questo è il premio Quindi Mia mamma Mi ha fatto Un piattino Di pasta E non Direi Che È Proprio Perfetto Perfetto Ah già che non è finito C'era l'altra Stenzia Andiamo a accendere Prima il falò Ci sediamo Pausetta Pranzo No moro Prima leggi Eh Sì Va bene Certo Tanto anche un pelo di anime È giusto Un pelo Inventario No Sono nei consumabili Sempre questi Rimembranza di Aste La progenie del vuoto Scolpita nell'albero madre Il potere che racchiude Può essere sbloccato Un nastro deforme Generato nella più remota oscurità Un tempo Cancellò una città eterna Privandola del firmamento Una stella cadente Che ricche in Fausti Prevazaziz Sono le bestie Che sono cadute Sono queste le bestie Che sono cadute Con i meteoriti Ciao Gattus Ciao Belli Siamo qui a fare la pausetta Noi Adesso però Mi hanno portato Mi hanno portato Un piattino di pasta Oggi Ragazzi Spaghetti Integrali Con Frutti di Mario Grazie a Dio Venerdì Ho solo 66 ore Di live da fare Oggi Grazie Spudino Frutti di mare Già sguscianti Sono Bongole Cozze E E anche pesce In generale In realtà Vongole Cozze Sono frutti Di mare Sì Mi è dato il momento Di condividere La foto del cibo Su discord Esatto Che bello Già sgusciati È vero Con i molluschi Bivalvi Frutti di mare Che buff Danno Su Eldering Beh C'è il Gambero Che ti dà Difesa Effettivamente Fai una Morotona No È che C'ho Questa Live Qui Poi abbiamo La live Di stasera Dove giochiamo A formula 1 Tra l'altro Oggi Campionato Tutto all'italiana Da quel che ho letto No Vale E poi dopo C'è il moro By night A mezzanotte Ah ecco Harlem Non si mangia C'è la pasta Con i gusci Di mare Senza frutti Croccante Direi Mi tocca farmi un pisolino Dalle 17 in poi Ma no Non ce n'è bisogno Come fai a fare tutte queste live Pippi forse Sì No No Non è vero In realtà Queste qui Principalmente Non mi pesano Perché Anche perché Lo sto giocando Infatti Sono contento Che vi piaccia Perché lo sto giocando Veramente Come se Lo stessi giocando Per i cazzi miei Elden Ring Quindi non mi pesa troppo Quindi non mi pesa troppo Però in past Puoi anche saltare i pezzi Quindi dai Tra l'altro Ci ho pensato adesso Dall'altra parte Di questo posto Di questa arena Del boss C'è l'ascensore Che ci porta di sopra No Lino Non mi guardare Che ti arrabbi Levati Vai via No Si stanno freddando Gli spacchetti No Non li butto Sono buoni Una cozza Lino La mangio io Che secondo me Lino oggi Vuole incazzarsi Quindi mi guarda Pesto di agrumi E pistacchi Che cazzo vuol dire Pesto di agrumi E pistacchi Come li incorpori Gli agrumi Si orse poi Non chiamarli Eh Pesto di agrumi Ma che storia Ma che storia Dopo voglio cercarmi qualcosa Mi ha intrigato Un botto Mi ha intrigato E grazie Della sangue Comunque Ci ha fatto il video Giorgione Quindi vedo Guardare il suo Guardare il suo Ogni giorno Vedo che mangiate Cosa incredibile Ma guarda che Qui c'è una cultura Del cibo Nel nostro canale Cioè ormai dovresti sapere Che Vale Credo che se cerchi Giorgione Lo trovi Credo si chiami Proprio Giorgione Non è Chiellini Naturalmente No Ah Twitchard Ha messo Vellutata Di zucca Con salsiccia Rosmarino E pane croccante Fico Mentre su telegram A vedere Vabbè La foto Non è così Invitante Cioè Non è che c'è E' una foto Con una granella Di pistacchi Però Dalla descrizione Mi fido di più No ma Ci credo Che è buona E che dico La foto da vedere Sembrava Pasta in bianco Dove c'è Caduta sopra Del pistacchio Mangiando degli spaghetti E i frutti Di Mario I preferiti Di lino Tra l'altro Non sono allo scoglio Perché non ci sono Gli scogli Dentro Tipo in realtà Sono al pece Come si fa A mandare le foto Del cibo Su discord Nel nostro Metto di qua Che poi mia mamma Non viene a riprendere Nel nostro server discord Adesso ve lo faccio vedere Prima di ripartire Aspetta Questo qui è il nostro discord Ok Questa qui è la Stanza Chiucina Vedete dove mettete Tutte le vostre Eh Tutte i vostri piatti Che cucinate Allora qua ci sono Tutte le robe C'è La stanza delle clip Dove mettete le clip La stanza delle citazioni La stanza Dei meme La stanza delle fan art Guardate che belle Che state Che robe che state facendo Su Achille Allora questa qui Cioè è fuori scala Eh Per carità Fuori scala Però guardate che belle Anche le altre Quella di Cir Questa qui fatta Su Heroforge La La statuetta Di Questa qui volendo È proprio comprabile In realtà su Heroforge Mi pare le puoi acquistare E farteli spedire a casa Guardate che belle tutte Che figate Però qui c'è la cucina Dove Vedi Ramen fatto in casa Molto bello Molto bello Merito Merito Comunque questo qui Era il nostro server Di discord Va bene Ma adesso bevo E poi torniamo a giocare Ma non prima di aver oraculato Al Nao Che chiede O saggio oracolo Nel pomeriggio un appuntamento Con quella che spero diventi La mia fidanzata Andrà tutto bene? Ah galante Personalizza il tuo percorso In che senso Ma Prova un po' Stai zitto Ricky Non devi Parlarmi tu Siamo litigati Sì I miei piatti neri Sono quelli Che li ho presi da Ikea Ah nel senso Siete stesso Beh può essere Ho visto il vostro Ne avete messi due Nel Cos'è Dov'è Mi sa che pure è scomparso Il thread di Elder Ring Ormai Eh sì Ve lo siete caccati in due Esattamente Orlow I piatti neri Non si graffano tutti E rimangono pieni di segni Quando li usi No Perché sono buoni Sti piatti Comunque Sono veramente ottimi Sono un pochino Ruvidini Però no Ti assicuro che sono Ottimi Sti piatti qua Che non si rigano Non sono verniciati Con la bomboletta Eh Adesso Amici Di nuovo Sigla Questa è la storia Di un tempo Lontanissimo Il tempo Dei miti E delle leggende Gli antichi Dei erano Crudeli E meschini Soltanto un uomo Osò sfidare La loro potenza Achille Laureo Era in possesso Di una forza Sconosciuta Sulla terra Una forza Superata Solo dal suo Coraggio Ma dovunque andasse Era perseguitato Dalla matrigna Lui era la testimonianza Vivente Dell'intedentato Uno lucerà Finché degli esseri umani Avessero invocato aiuto C'era un uomo Sempre pronto a correre In loro soccorso Incurante Delle difficoltà Achille Laureo Eccoci Devo Soffiarmi un po' Il pifferone Aspettate Anche va Sono contento Vi piaccia La sigla Non il lio Che mi soffiavo il naso Sono contento Ci può avere il link Della sigla Nel cesso Per motivi scientifici La trovi Sempre Su Discord La trovi Su TikTok E su Instagram Nostro Dei termosifoni E la trovi Anche su Discord Nella stanza Dei meme L'aveva messa Liuk Qual è il davanti E questo di qua Andiamo Le ampolle E' vero Il livellino Ma sono due spade Di gazzu Praticamente si Potremmo dire Anche due spade Di cazzo Qua c'è più niente Andiamo Scusate Scusate Tarlo Hai già capito Dove ci ceremo fuori Eh Tarlo L'hai capito Dove spunteremo fuori Come dei piselli Guarda eh Adesso te lo dico io Dove spuntiamo fuori Come i piselli Altare del chiaro Di luna Va dove siamo Siamo sopra Il montanozzo Tarlo Questa montagna Di palle Ebbene si Io lo sapevo Te l'ho sempre Ci sono i Raggi laser Una grace E a questo punto Si esplora Ma questa chiave Dove l'ha trovata Che chiave Nessuna chiave Ho trovato Ho fatto un percorso Lineare E retto Più o meno E' la quest Di ranni Praticamente E mo' Allora qua Dovrebbe essere Un cul de sac Anche se sentivo Ecco C'è un drago Là Un drago Che ormai Noi siamo Li sputiamo in bocca Questi draghi Ormai Quanto siamo forti Hai fatto qualche Main boss Ultimamente Ho fatto Radan L'ultimo che ho fatto È Radan Di main boss Abbiamo fatto Godric Radan E Renala E Radan Io ragazzi Penso che sia Il miglior boss Di un souls In generale Lino Quanto ci hai viso Tu con Radan Tu sei il tipo Che con Radan Si è messo a ridere Come un imbecille Sono sicuro Non volare subito Però Lui è il suo cavale Ma L'hai letta La Non è Ah si Ce l'ha la vita Ma aspetta Ma è lui Perché l'altro Il drago Porca merda Il drago Quell'altro Era scappato Non l'avevamo ucciso E lui Eh Ma che mossa è questa Ero troppo lontano E qua Dai What's the shitty figure Non mi farai male Dai basta eh Adesso scendi giù E la facciamola finita E' ora di smetterla Con questi draghetti Che vi fanno i dispetti Questi dispetti Che vi fanno i draghetti Ammazza sto cazzo di drago Damme Damme tutto Ma 6.000 anime Mi ha dato Era proprio Un pippone Un pippone Era Era il pippero Potremmo chiamarlo Qua mi butto E non torno più su Forse si Da qui c'è il sendiero E se i draghetti Si mangiano i funghi Ma che questo è un altro Ah Faceva l'amore Ma forse questo è quello Ma scusa Non ci siamo Potevamo combatterne Doppio Con la grande inculata Dai dai Another one Another one No E' giù con la testa Però Ecco Così Porca bestia L'ho presa Chiedo sorry Ma The dragon slayer Plurimo Nulla puoi Contro Di noi Io E il mio amico Achille Due Che non ho evocato Perché se no Ti avremmo spaccato Un poeta Ragazzi Allora Decidiamo Se fare prima Il contorno Il contorno Perché poi sopra C'è un cattedralone Delle rovinette Qua No Il villaggio Gli albinauri E quello sotto Direi di fare prima Tutta sta zona qui Dai Però facciamo Facendo il path Il path of the full moon No Credo sia solo da qui Che vediamo così Aia Ma questo coso per andare Dove cazzo Dove cazzo è la torre Dove cazzo è la torre Eh Oh c'è un carcere Ragazzi Non era una torre Qua A questo punto Come funzionano le rune maggiori Che le devi equipaggiare Attivandole a una torre Prima le devi attivare a una torre Poi le equipaggi E usi una saetta runica Per attivarle Tipo l'umanità Capo dei neri coltelli Ma che mi stai a dicere Ma come si muove tutto In teoria è una donna Letto i miei coglioni Porca bestia Che dolor Ah Gli faccio poco D'anacol Ragazzi No no La saetta le potenze è basse Cioè le Le attiva proprio Maxxer Non sono Non sono già attive E' forse E' tosto questo Sì E' sembra tosto Sembra tosto Più che altro E' un sacco veloce Noi con sta cazzo Di build Potremmo avere Sucamento Contro di lui No Mi scemo Aspetta Non possiamo Neanche evocare Il double a kill Ma che fastidio Questo bisognerebbe Sfondarlo Di Perry E se non mi curo Muoio pure Niente Sono morto Sì Dopo averle attivate Si Si disattivano Se muori E devi riattivarle Con una runa Con un'altra Cioè con una runa Con una saetta Allora Ci stiamo concentrando Sul Spaccargli la faccia E basta Senza guardare Bene il suo moveset Perché Non stiamo guardando Le finestre Che ha Per essere attaccato Spaccargli la faccia Faccio proprio Un cazzo Gli faccio Si stagghera Si stanna Facilmente Forse Forse si riprende Subito Porca buttana Quella è una Gran finestra E questo È da evitare Assolutamente Che ci ammazza Istantaneamente Sarà una seconda Fase sicuro Che incazzi Dai avvicinati Avvicinati Putana Non ci arrivo Era una presa No No Bestia Ho bevuto Tutto Ho bevuto No Mi speruzza L'audio Mi speruzza Dai non ci arrivo Però quanto è stata bella Porca miseria come fight Che palle Ma schivato quell'ultimo attacco Ma schivato Ma scoreggia l'audio Aspetta Fatemi riavviare l'elgato Che peilus Però si fa l'affondo Dopo la rotolata di sta spada È qualcosa di fighissimo Comunque È per questo che farò fatica A trovare un'altra spada Andiamo Usiamoli questi buff All'inizio Me magno tutto Me magno il pappone Bastardo Prima mica Me l'ha fatto fare Il cazzo di secondo cosa Maledetto Ma poi quanta vita Toglie il fuoco Ok Incastrello Dai che con questa invulnerabilità Mi passa il fuoco Oh shit Sono morto Questa qui tra l'altro È la mossa Non c'ha la testa Non c'ha Non ne sono accorto adesso Era la mossa Con cui hanno ucciso Il godfrey Mi sa È la stessa Posa In cui erano Nella cazza iniziale Forse Che sia la base Dei neri coltelli Qui Porca vacca È la mossa Con cui Achille Uccide nel film Troi Una cazzata È Questa è Ahia Parca bestia Che Peter Ahia No ma perché Delle volte si gira Delle volte non si gira A mirare quel cazzo attacco Da sta minchia Eh non è così facile Diversity Che sbaglio delle palle che ho fatto C'ha sta cazzo di mossa che è veramente troppo forte È telefonata è solo che io con le armi lente se faccio un errore non c'ho più tempo di riprendermi mai Effettivamente no Beh è stato imprigionato qua comunque perché magari è vicino dove l'hanno preso Non sappiamo ste prigioni come sono messe intorno al mondo eh semplicemente Magari è dove sono riusciti a catturarlo ed è vicino alla loro base Ne godo in quello che muore si In teoria Da quel che abbiamo capito si Alla prossima Stamina Certo che gli fai E' durissimo lui comunque Però se perde equilibrio Anche con un'arma Con qualcosa di poco Cioè con una katana Se gli togli equilibrio anche con una katana Allora diventa una cazzata Con le armi leggere lui Cioè anche se la schivi dentro Ti prende quella Che pelis Merdaccio No sono morto di nuovo Sempre a così Sempre Sempre perché mi schiva tra l'altro Quella cazzo di Terza combo Io uso principalmente la katana e smadonno contro i cadaveri Contro i cadaveri Contro i cavalieri Eh ma ha fatto quella combo alla fine Che mi ha Completamente sfanculato No è fighissimo però questo Questo è veramente fighissimo Come boss Sono pirla No è fighissimo però questo è una katana e smadonno contro i cadaveri E' una buona arma destrezza Ci sono un botto di armi destrezza in sto gioco L'abbiamo visto Maledictus Ho preso una caviglia Allora aspetta Allora aspetta Eh Ok Credo di fargli più male Comunque allora la roba del repost Non ho capito perché l'hanno nerfato così Che schivaggio bello che mi ha fatto Porca miseria Poi chissà se è anche backstabbabile Bisogna vedere se ci si arriva bene Al backstabo Questa me la schiva sempre No Beh Uh Diche dei neri coltelli Che però non è lui O lei O bochile Un'ora Cosa un'ora Ah un HP Si era rimasto veramente con un HP E' stato un botto di rune Livelliamo E' nerfata perché hai due armi Eh? No è nerfata Il danno del Del reposto è proprio nerfato A parte che ho notato che Se hai l'arma una mano o due mani Non cambia niente il danno del reposto In questo gioco Non so perché Ho voluto far così ma Perché questo? Ma Ho trovato un pacco Sono le Resistenza Della sigaretta Fotonica Aieh Voilà Arrivata la droga Sì Il pacco di droga Il salto Perché Cos'è questa jump qua? E forse dall'altro verso Non c'è niente O è per vedere Te l'ha messo come Per vedere Però è strano Comunque Molto strano I cristagliofoni Allora Mo' voi Puttana che doloris Senza evocational Damage Poi Ok Dovrei fare un botto di male Con questo Però Sai che qua E' uno and'è Aiaia Chi è? Grazie Chuck No no L'ho vinto Ho vinto Questo Figurati Se Achille Rinuncia Figurati Ancora Un altro Ce n'è Vai Voi qua Ho sentito Che c'è un altro Eh Eh si Fai Le Come si chiamavano Orca puttana Come cazzo Le ballerine volanti Dov'è il Pippo Luccicoso Non sento più Allora Dove siamo Ok Sta parte sotto qui Va buono Molto buono Va buono Va buono Mi piace E' qua sopra Uh bello Mi servi oggi Ridammi le fiascole Thanks Ok Teletrasporti Sento Piuzza Di teletrasporti Lì Saranno falci Solo destrezza Immagino Ma può darsi Ma vedi che se sono anche Le falci Penso che siano Solo destrezza In questo gioco Ma non ci sono Teletrasporti Spetta Ancora 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 tu Mospetti Puttana Che paura Aspetta T'ho detto Aspetta Gazzo Eh Non buttarti di sotto Che fa la gran figura Da cioccolataio Eh Purca miseria Ma questo Quando l'hai Imparato C'è mancato Un pestil Aia Adios Che traballamento Di scambio Che abbiamo fatto Qua Dietro Livello 7 Qua si va 3 Da 8 E qui Un pelo alto Però Lì a sinistra Si può scendere Che è alla destra Cioè a sinistra Della costa Qui No La runa Aurea 1 Credo Fosse un Teschio Che è calpestato Botta Risale Eh sì Issa Issa Vediamo Queste qui Questi teschielli Qua Porca merda Ma ci sono Due lune Me ne sono Accorto Mo Cioè c'è Quella luna Lì e Quella luna Là Dopo ci tipiamo Da qualche Altra parte Per vedere Se è così In tutto Il Miondo Moriamo Comunque Anche da qui Non c'è Non c'è un Cazzo Qua Sotto Ah Tempo di usare Il sapone Un pochino Sì Andiamo Andiamo alla torre Di Mario Che c'è anche un riposello Pieno di tartarughe Simbolo di saggezza E eterno vigore Succede di bello di stamattina Minchia Stamattina Minchia Cioè Cioè tu vieni qui e chiedi cosa succede di bello stamattina Cioè Dai Forza 50 Intanto Queste sono tutte da rispeccare poi eh Ci facciamo un altro livello Aspetta 87 serviva Al pelo Questo lo mettiamo ancora su arcano Come riserva per il respect Ed è già mangiato Sì Allora Qua c'è da cercare le Cerca tre grandi bestie sagge Ah Ostia Forse non si intende le tartarughe Stavolta Una tanto sarà per forza qui sotto Se Tre grandi bestie sagge però Le altre volte C'era scritto sempre Bestie sagge Porca merda Eh aspetta Da qui Ho capito E un andè Beh Sono belle grosse Sono eh Questa era una bugia Maretta Era una bugia Dovrei ben vederle Saranno tutte attaccate Alla sponta Alla sponta Eh Espa Espa Oh Sicuramente saranno visibili Solo se Visibili solo se mi avvicino E che non credo siano Distanti Sono sempre state Intorno alla Sono sempre state Intorno alla Casa Non stare attenti al suono Ce ne sarà Saranno entrambi Invisibili Porca bestia No come hint Voglio solo sapere Sono comunque Intorno alla Alla casa O posso andare Ancora più distante No sono distantine Eh ma cazzo Scusami Cioè fino adesso Me le hai messe sempre A capa di cazzo Cioè fino adesso Me le hai messe sempre Intorno alla Minchia Per carità Queste sono grosse Dici Eh vabbè Sono grosse Stanno più distante Qui intorno dove ci sono Ste tartarughe Cioè è un pochino Anti intuitivo Se me le fai Se adesso mi cambi Tra virgolette Quella che Io posso aver percepito Come regola Qui sono le lumache Che spruzzano Sburr Ma distante quanto Cioè tutta Tutta l'isola Cioè ci sarà un limite Distantine Nel senso Sono in tutta La zona Dell'alto piano È un po' Una mezza Cazzata Questa Però Allora Continuiamo a esplorare Poi quelle lì Le troviamo Quando le troviamo E anche a me Mi sembra un'idea Un poco del fallo Non riposare O spariscono Però pure Grazie Mezzio Fufezio Bel nome Complimenti Vediamo se riusciamo A fare A farlo tutto A me l'idea di cerca Questo è fighissima È una caccia al tesoro Cioè è una delle robe Più fighe che c'è Come su Zelda Tutti gli enigmi Ambientali E robe così C'è anche il primo Delle tartarughe C'era quella invisibile Che però era nell'acqua Quindi notavi Le increspature Tutte ste robe qua Sono fighissime Però Se mi insegni Prima una cosa Poi me la modifichi Per carità Poi magari trovi Qualcuno Che te lo dice Che ti dà qualche indizio Sto facendo La circonferenza Così non Ci perdiamo Troppe cose In un open world Esplorativo Così Sono fighissimi Gli enigmi Di esplorazione I puzzle In generale Beh ma non diventa Estenuante Anche perché Sono belle grosse Io spero Non compaiono A due centimetri Di quanto ti avvicini Ma se sono su tutta l'isola Le vedi già da distante Spero Vado a mangiare la puzza Buona la puzza Un'area di ricerca Non sulla mappa Che fa cagare Ma che Tipo leggendo il totem Partiva un raggio Verso L'alto Che creava una cupola Dentro la quale cercare No non ce n'è bisogno Ah qua ci sono Delle tartarughe Però Magari l'indizio È questo Se qui ci sono Delle tartarughe Vuol dire che Una è qua Vedi Eccola Ok Sta cosa è molto carina Allora Bella No Vedi senza Che guardi Troppo Ah si è aperto Sono solo due Sono Ma non c'era scritto Le tre Era tre bestie sagge Perché no Una si è suicidata Te lo spiego No Se ci posso arrivare Io non me lo spiegare Immagino che adesso Lo capirò Vado dentro Lo capisco Magari una È la Paparuga No anche perché sono Non sono neanche spiriti Questi sono Così Dove c'era l'aria Per il salto E ma tanto Non la posso Verrà uccisa Prima Puglia di Chelona Una Con la Grande Chela Quindi Quindi l'ho uccisa Mentre Scusami Ma quindi Erano Anche negli altri Erano Uccidibili Anche prima di Ma che storia Quindi Effettivamente C'è Era palesemente Tra l'altro Non so neanche Non so neanche perché Non ci ho pensato Di andare direttamente lì Gli oggetti che ti ha dato Carre Ah Varre Gli oggetti mi ha dato Varre Mi ha dato Mi ha dato Questo Illuminare il mog Sarà lieto di accogliere Come il cavaliere Che getterà le basi Del BB Cos'altro mi ha dato Scusa Ha dato il dito Il dito L'abbia letto Mica mi ricordo Se l'abbia letto Questo qui L'unghia del dito Gronda di sangue fresco Lucicante La pelle biancastra E nauseabonda Non avverte più Alcuna sensazione Ma l'unghia Continua a soffrire Di una dolce agonia Blh 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 Bli oggetti chiave No Non si possono usare No Eh farlo Vieni qua e piangiamo insieme allora E teniamoci per mano Ma che antenna che ha? Prende Sky Luna nera di Rani La luna nera The Dark Moon La luna nera Questa Legendaria stregoneria associata alla regina di Caria Sfrutta l'esecutore come ricettacolo Per manifestare una luna gelida e oscura Da scagliare contro i nemici La luna oscura dissolve ogni stregoneria Che tocchi e riduce tempo La resistenza Ok come l'altra ma in versione più potente Fu la giovane Rani Guidata per mano di sua madre Rennala A trovare questa luna Una visione di gelo e tenebra Ammantata di misteri occulti Ma c'ha la riga nel mezzo E' la morte nera questa La morte nera luna Luna nera morte La morte della nera luna nera Sì ma che stat serve? Non mica lo guardate Beh Presumo tante Sessantotto di intelligenza Ma come fai? Sì è cento di mana Quindi Torniamo a fare questa fessura qua Mandiamo siu E facciamo Ma noi la potremmo già usare tranquillamente Se fossimo un mago puro Anche perché dovete sempre togliervi dalla testa il sistema di leveling di Dark Souls Qui vai molto più in su E puoi anche menare le mani Se fai Non abbiamo trovato ancora la Moon La Moonlight Sword Secondo me la troviamo qua Tanto c'è per forza la Moonlight E'ehou personajes che guardate Lo guardate Andiamo a fare questa Ma noi la bombardate Questa sarà un'è Maменę Questa sarà un'è Bello che ci sia Oppela là Rovine della tenuta lunare Aspetta fammi fare Il check up completo Per favore Non scoreggiaggiamo Allora giù si vede il castello Gran Temperio Che belli raggi lunari Fanculo il sole Cosa ci nascondono queste rovine Eh? Sento del rumore di Una cascata di fiamme lunari Orca merda Orca bestia Oh mio dio Fermo Fermo mi fai paura Tu mi tiri gli schiaffoni Oh mio dio Il mio nemico numero uno No via via Oh my god Ah che paura No Ahia Mannaggia a te Mannaggia Guarda Basta di fare questi svomitini Oh Oh Dai Fai i versi della cleric beast Fermati Oh my godness Numero due Scusate Sì Il primo è la gravità Affanculo Era lui che faceva sto rumore di merda Hmm Suspicio Fai i versi della clerici Maledetto Pensa che ridere se c'era solo quello Trovato Aspetta eh Ah c'era il messaggio C'era allora Allora a posto così Pietra e la forgiatura Otto per tre Bono Bono Io sono in decim- Potremmo Lo sapete che potremmo Cioè potevamo in realtà potenziare lo spadone da Da tempo Non l'ho mai fatto perché Ho sempre detto Metti che Proviamo La cosa che più ci aggrada Guarda che ci più acue Almeno uno spadone Possiamo potenziare L'altro Non ancora Lì ci andiamo alla fine C'erano altre rovine Quanto manca ancora metà gioco Voglio trovare le cose No no Siamo alla fine Siamo Oh Oh my shitness Scusate ho starnutito Grazie Grazie Ah Medaglione D'ambra Zerulea Più due Questo è quello che mi aumenta Il mana Minchia Di 11 punti Cioè Non so Sono due Tre livelli Sono Che poracciata Mondizia Mamma mia Spregevoli C'è dell'altro Però Porca bestia Aspetta eh Bevo Oh Bella gagata Complimenti a me Sì Si l'orso Si è preso un schiaffone in faccia Completamente Per sbaglio Buona In che zona sei Sono nell'alto piano anale Qua sotto Finito Finito Qua si torna verso l'ascensore Poi andiamo verso l'alto No te non ti cago neanche Guarda Tanto mi droppi una convallaria Sepolcrale Ma io ormai c'ho il Super Anzi guarda Sapete cosa Veditela tu Andiamo Una porca puttana Ha tirato un Kukri Chissà se me li consuma No perché l'avevo usato Non me li consuma quindi Ma come se ne sbatte lui del veleno Vai 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 Ditto Faccio io eh Che non sai la volontà Della kill Eh si Me l'avevano detto infatti Che Era una porca Qui cade un raggio lunare Che però scompare Quando mi avvicino Maledizione Tra l'altro È simile a questi qua Che non ho mai usato Schegge di luce stellare Che io non ho mai usato Perché Cioè quelli lì se ne trovano Veramente Probabilmente in tutto il gioco Se ne troveranno Dieci Però sono solo dei regen Cioè sono come la benedizione Nascosta Anche quelle effettivamente Se ne trovavano Poco e nulla Vediamo Che te rovine Differenza dei rarissimi Ziglisi Rovine dei lunaris Ah guarda che C'ho le trappoline Queste qua Setta nudica A meno che non respawnano Le notte Di notte Nelle meridiane No non credo Cosa dicono Dicono Sono uno sfortunato Anziano Maledizione Sono qui per caso Non mi provocare Del dolore Achille Please Eh però mi spateca Del guglioni Eh Ho tirato un cucchiaio Oh porca bestia Purtroppo Ero in fila E ho perso il posto E ora Non so più che fare Tiè E noi gli diamo la vita Dei morte La spada che sto usando E spadone Great sword In In english No non è Senza possente Proprio spadone E basta Si chiama spadone pesante Perché gli ho messo L'affinità pesante Però si chiama spadone Di base Da questa parte Gniulla C'era lì La saietta Pelvica Dobbiamo stare attenti Alle pavimentate Ma cos'è che è crollato Qua scusami Eh ti ho ingannato Vector Chiedo perdono Ho fatto cascare Tutte cose Ma Da te ti sparo Tiro fuori la pistola Tanto sono sicuro Che una pistola C'è in sto gioco Metti Vuoi che mi azacchi Non ci ha messo Una pistola Vuoi che mi azacchi Una pistola Così a caso Una beretta Non ce l'ha messa Come easter egg Ah vedi L'ho visto L'ho visto Basta Rutolarci Eh lo scudo armato Ce l'ho Però non so C'è 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 i lanciafiamme C'è Questo qua C'è i cannoni Di droga Boh no Non abbiamo armi Non mi piacciono Per adesso Non ce n'è una Che dico Ne vale la pena Di armi speciali Perché comunque Le armi speciali Non le puoi infondere E non gli puoi cambiare Lo scaling E hanno tutte Scaling di merda Le armi in sto gioco Quindi Grasso di Muminiana Porca miseria Ma che disastri Sottofatto Si va nella rovina Che ti rovino Va va buffon GG proiettili Con la pistola Naturalmente GG proiettili Andiamo verso di là Andiamo prima indietro Che là non siamo andati Non credo ci sia niente Sì per le armi speciali Ce le ho le pietre Non c'è un ciuffo Dai chissà se Rincontreremo Renni Magari Quassù Permesso Nelle rovine Non voglio rovinare Niente Ma purtroppo Già avete dato Andiamo Che sa succede Oh Porca paletta Adulla Vi è giù No vi è qua Dai Ma senti qui Eh Cosa faceva La collezione Di voi draghi Magici Ops Eh scusi Upsidu proprio Eh Che fai Eh guarda Sono dei dragon slayer Te lo devo ripetere Again The dragon slayer No Non ci ho preso Purca merda Ma che strada hai fatto Mi è inculato Sta strada Che ha fatto E questa Dove l'ha tirata fuori Ragazzi Era la Moonlight Sword Ve lo dico io Me la droppa lui Sono in un posto Un po' Catafrattico Per combattere Non ci ho preso Ma come è fatto Puttana Meglio Meglio No Vole di drago Lama lunare Beh In un certo senso Eh Ma credo sia uno di questi Quello che è scappato Sbardi In un certo senso In un certo senso Scandione geli da lama Evoco Lo spadone Adula Era Un cavaliere reale di Caria Fedele alla luna nera di Ranni E amava divorare gli stregoni Come gli altri Infatti è stato corrotto Dalla scintipietra pure lui Di Manus Celes Ecco un'altra Cosa di scheggia Liunabile Drago Cavaliere Sì nel senso Che faceva parte Dell'esercito Di Di questi Non credo fosse Un umano Diventato Poi Drago Nel senso proprio Che hanno fatto Cavaliere un drago Scheggia 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 C'è un buco Scheggia 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 Mi lamentavo prima No in realtà Non è che mi lamentavo Che mi sembrava Scheggia Sembrava strano Scheggia 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 Qua sotto Si ritorna giù Dove siamo già stati Scheggia 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 Questo qui è un altare Sì è un altare Per lì mi sembrava una tomba Ma non era una tomba Però questa è una gran cattedralona Cattedrale Manusceles Della mano celeste La mano celeste di Dio Della volontà Grande volontà gigante Bluff Bluff Dove mi sto andando a infilare? Bluff Bluff Le tre dita E questa è Ranny? Guardala Guardala Col marchio mortale Guarda le tre dita che hanno il marchio mortale Hanno il marchio Non volevo cavallare qui Scusate Ho fatto un Eh Non ce l'ho più Io il marchio mortale Merda Questo è il torna indietro via Fiume Credo Le tre dita che in teoria Le tre dita eretiche Tipo Amante Però Scusa Due dita No Aspetta Però sono solo due le dita O qua sotto C'è un terzo dito Perché sembra esserci Il posto per il terzo dito Ah ma non è Perché il corpo della bambole basta Questa è la bambole basta Ah no Indossa Cos'era Indossa Indossa l'anello Ah è vero L'anello Che abbiamo trovato Guarda che gentil uomo Che Achille Esco un Barsa Ci ha fottuto l'anello Si dovrei prestarle un po' di sapone Però Beh Però guardala Non c'ha più la seconda faccia No ce l'ha ancora Che si dice Scusi per la spada conficcata Nel suo corpo Fasullo Mai lord Mi ha detto sì Nel foglietto E il limone Ranni E il limone Spadone della luna nera Giustamente della luna nera Pa 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 Spadone Ah nello spadone qua Ma non è sempre stato full magic Lo La moon knight La moon light swords Spadone della luna Donato da una regina di caria Al suo sposo Per dare seguito A un'antica tradizione E uno dei E uno degli allarmamenti leggendari Il sigillo di Ranni Ranni rappresenta una luna piena Fredda e plumbea E quest'arma Non è che un raggio Della sua luce Spadone della luna Solleva la spada Per attingere il bagliore Della luna nera Potenzia gli attacchi magici Per un periodo Infonde la lama di gelo Quindi adesso Achille No non è ancora sposato È promesso sposo però Abbiamo dato l'anello Eh Sperando Di concludere qualcosa Con lei Però questo significa Che Achille Ha abbandonato Ora più che mai La via L'aurea Via La via della golden shower Abbiamo fatto qua Raga abbiamo fatto Quindi abbiamo fatto il sotto Il questo E adesso Si va di qua Dobbiamo scegliere Se partire da qui O se partire direttamente Da dove avevano lasciato di qua Quindi villa vulcano Anche se qua Alla fine Eravamo usciti fuori Però poi bisognava fare Tutto il giro dietro E per arrivare Alla villa vulcano Io direi Di partire comunque Dall'altopiano Ruvine di lux Però non è l'houx Andiamo all'altopiano di altius Perché qua Anche qua è bella grande E si rinizia L'esploramento No io direi invece Vector Di fare Di esplorare Il più possibile La zona open Di qui Guarda belli Ci sono i mulini Laggiù C'è l'olanda Direi di fare Prima la zona open Così metti Che giochicchio Un po' Nel weekend Posso Proseguire Cioè posso Riesplorarla Un pochino Anche off live Però prima Andiamo un attimo via E' morto Globo Cinerio di Rogier Cappella Punta D'Incantatore Avete tutto il suo set Lettera Di Rogier Perché Lui Giustamente Noi abbiamo Abbracciato Fia Che era L'altra Parte Della quest Credo E sia per quello Ok Non ci dice Un gazzo Mentre C'è una cosa Che ho dimenticato Di dirti Sembra che Di abbia Un fratello Minore E filli L'avevamo capito Minore Ho saputo Che giace In un sonno Profondo Nell'acquedotto Accanto Alla città Eterna Di Nocron E dicono Che abbia Incontrato Il principe Della morte Poco distante Da lì Ce lo siamo Persi Allora Per tutta Per tutta La tua La tua Viste Rogier Si è fatto Scudo Di un profondo Distacco Nessuno Ha mai Compreso Il suo cuore Il suo cuore Ce l'ava rabbia Rancore Rimorso E pagliuca E su Dai Prima di andare A vedere Aspetta L'acquedotto Nocron Era questa Qua Però L'acquedotto E questo Qui E Sbanlio Dopo andiamo A dare Un check A Non sembrava Tanto un acquedotto In realtà Sembrava Viu Dirupo Sull'acquedotto L'acquedotto E qua Dirupo Sull'acquedotto Dopo andiamo A fare Un Un rapido Check Ma prima Ragazzi Le cinque Mi mancano Due Da cinque Però No No Non è vero Vecco Yes 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 A posto Facciamo un Rapid check Vedere Vedere l'attacco Lo scaling Adesso lo vediamo L'attacco C'ho 728 Compreso Di scaling E tutto 355 Più 372 Scala A Ragazzi Secondo me L'arma L'arma più Forte Questa L'acquedotto Scusatemi Scusatemi Una cosa Eh Quasi 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 Dean Sai Allora L'acquedotto È questo L'acquedotto È questo L'acquedotto È questo Fatemela Rileggere Un attimo E già Ci Non sono Profondo Nell'acquedotto Accanto Alla città Eterna Nocron Porca Troia Oh E va bene Dai Faffangulo Ho già provato Dito Mabuco Più volte Kill È un cultore Qui Qui sotto C'era solo Sto cadavere C'era Scusami Ma c'è Ma c'è sempre Stato Sono La città Inferma Gatto Ah Il dub Mi ha Dato E lui sta così Messo di merda Perché Sta messo così Di merda Perché è morto Il fratello Giustamente Ed erano Connessissimi Devo ricaricare La zona Però aspetta Ma non è Il tranviere Ma non è Il tranviere È la Dub Questa Scusami È la Dub Perché Te dici Il tranviere Quello di Pokémon Perché È È più È più una Jojo pose Effettivamente Sì Alberto Sordi Quando fa Il vigile È una Dub Molto dura Sì Quella di Glizzare È la Dub Di Glizzare La squadra Genius Sì In realtà È un sacco Di roba No è ancora qui È No è tutto fatto Di cazzi Lui Vabbè Vorrà dire Che Si continua Di qua Dove eravamo Arrimasti Boh Allora Si parte a fare L'esploration Di qua Ragazzi Proviamo ad andare Da Fia Adesso No adesso Voglio esplorare Qua voglio esplorare Corsa Alla mappina Direi Che è un'ottima idea Ce ne sono due In realtà Andrei a sbloccare Tutte e due Poi iniziamo L'esplorazione E tra l'altro Qui c'è un cavaliere Notturno Quindi La facciamo Anche di notte Questa Scusa Non ci ho preso Che figuraccia Loro I soldati Quei lì Dorebbero avere Una ridottissima Probabilità Di droppare Smiting stone 6 Come si chiamano Le pietre D'afforgiature Intanto qua Ci abbiamo Il fiascume Però È la prima Vero Sì Ok qua sopra Non ci ho preso Che figura Ecco ti pirla Allora Aspetta un attimo Che adesso No vabbè Parliamo Eh ma guarda Come fai a dire Ma guarda Tu Rivedere un volto Ma lei Benda negli occhi Hai Ah però Non ci ho preso Non ci ho preso Non ci ho preso Non ci ho preso Da sotto dove, gatto? Eh, sì. Dove eri prima? Ostia, sì, credo. Dici, qua? Qua sì, un boss era qui. Non mi ricordo che cazzo di boss abbiamo fatto qua, però. Sì, sì, anche qua c'era un altro boss. Cioè lì la zona devo averla completata del tutto, mi manca solo il templio, quello in alto. Che presumo quello lì sia una zona avanti sì. Allora, l'altra era qua giù. Che miseria, questa zona, guarda quanto cazzo, guarda che siete veramente... Miyazaki, te veramente un capisci niente, eh? Fatelo dire. Lì c'è una miniera stonks. Capisci niente, Miyazaki. Sì, sì, lì la zona gatto l'abbiamo completata praticamente tutta. Manca solo il tempio appunto in cima. Andiamo a fare il corridoio di capelli qua, per andare a prendere l'altro pezzo di mappa. Ma prima un sottomaiò permesso, dai. Mamma mia. Allora, se andiamo a fare l'altra miniera là, sicuro possiamo uparci tutti e due gli spadoni. Questo è un altro falò? Sì. Allora... Ma gomme funzion... Porca bestia! Ma proprio qui mi dovevo fermare. No, per... Oh, porca miseria, mi avete ammazzato il cavallo. Usteria, ragazzi. Fermo. Allora, ragioniamo. Questo non era un buon ragionamento, eh? Beh, giallo, non so se ti sei perso poco fa, ma ho fatto lo spadone al più 23. Ma siete... Ma allora, avviate notti i coglioni! Porca buttana! Grazie, gatto, di avermi spoilerato che il massimo è 25. Molto bene! Oggi che era tranquilla la situa. Cosa vuol dire? Ma se non sai che arma è... Mi hai detto il massimo è 25 di maxare le armi. E questo di qua è fatto. Ecco la possenza di Achille. E di quel martello è il massimo è 25. Eh, quindi sarà 25 di tutte le armi, gatto, perdonami, eh. In che... In che souls le armi cambiano di livello... Di massimo. La mia spada max è 9-10 perché sono quelle speciali. Come in tutti i souls, con le armi speciali arrivavano a più 5 e il resto a più 10 o più 15. Mi aspettavo il 30 o il 25 perché fino a 24 ce l'avevamo le rune. Però... Ma scusa, è una statua di mari che è imboscata qui di fianco? Che là mi sa è oltre la porta sta roba, porca miseria. Credo che sia... Orca bestia! Orca bestia! Con due arcieri così? Merda, sapevo io. Credo la mappa però sia oltre la porta. E oltre la porta... Non so se ci voglio andare adesso. Delle anime ce ne sbattiamo un pochino i coglioni. Dai, andiamo a esplorare di qua, va là. Facciamoci sta campamento grande, molto grande comunque. La porta mi sa che te la sbattono in faccia. Ma a parte che sono entrato da dietro tanto. Quindi... Vuoi o non vuoi? Possono fare il cacchio che gli pare. Oh, pirla. Sono seriamente tentato di andare di un'arma, ragazzi. Perché veramente mi manca fare i perri. Bestia che legna. Spada del vassallo, anche questo ne abbiamo 68. Non c'è niente. E io mi sto divertendo a fare i danni porci, ma merdosi. Proprio faccio... La gente scappa quando mi vede, eh. Però effettivamente dopo un po' è monotono fare sempre così. E poi solo con uno spadone potrei togliermi il talismano che mi aumenta il peso trasportabile. Innanzitutto... No, innanzitutto... Qui e qua. La foglia capillare a cosa serve? Che è viola... No, è rossa la foglia capillare. È rossa e serve per fare la carne pregiata, quella che aumenta l'attacco. In realtà c'ha sto affondo che è fenomenale, eh. Best attacco dello spadone. No, ma non voglio metterla a follow mod di qualche giorno, roba così, ragazzi. Adesso oggi è abbastanza tranquilla. A parte Gatto, che è uno spoilerone bastardo. Ieri è stato il delirio. Era il tripudio del backseating. Inutile poi perché erano tutti sbagliati. I backseating che facevano. Eh, Gatto, ormai il danno è fatto, eh. Ormai sei bollato come infame. Non era per te, in realtà era per questo l'infame. Tu sei uno stronzo. Oh, oh my god! Ma basta questi pugnali a ventaglio, che non fanno aria. Questi sono una trappola, i pugnali a ventaglio, no? Arriva la signora, li prende, si sventola e si graffia tutto il viso. È pericolosissimo, eh. Porca miseria. Allora, lì c'è del bottino bottone, ve lo dico io, eh. Sium! Pirla. Oh, e datemi i pezzi di titanite non titanibile. Sono finite queste balestre che non me le voglio ritrovare nel culo, eh. Adesso che vado a lutare come un maestro. Non so che vado tutti che l'Helder Ring è il potere dell'amicizia. Sì. Spada Aurea dei troll! Eh, ma non siamo più degni noi. Ma è la spada quella proprio dei troll dei troll. La spadona... Quella che hanno appiccicata con la plastilina nella schiena. Visto che non hanno una fondina e hanno la schiena con la calamita. Talismano Granschiulo! Adesso li leggiamo tutti. Sono curioso. Chissà se secondo me il talismano Granschiudo c'entra qualcosa con gli scudi. Ma non erano tre le... le caro Venus? Sono stupido io? Magari quello... Gatto! È vero! Grazie, bananagione! Grazie per la siubi. Effettivamente i troll dentro il petto hanno questa... specie di lapide dentro. In realtà non è nient'altro che la placca è una calamita così nella schiena si attacca. È come... il telefono con il magnete e il MagSafe fanno praticamente. Gatto! Ecco da dove l'ha preso Miyazaki. Dal MagSafe dell'iPhone. Niente, sono pirla. Non c'era un'altra... un'altra carlovana. Vabbè che ho letto ieri l'articolo che a quanto pare la co-op dei Souls Miyazaki l'ha concepita quando è rimasto bloccato un attimo nella neve. Sono arrivati dei tizi ad aiutarlo e dopo sono andati via. Questa è come ha concepito la co-op dei Souls. Ok, ho fatto tutto l'accambamiendo. Ce n'è un altro qua. Andiamo. C'è un oraculo? Aspettate che mi è coperto. Vediamo. Rudros chiede Oh grande oraculo riuscirai il mio Brambilla Fiumagalli a diventare lord ancestrale? Primo Soulslike che gioco. Non è un Soulslike. Pensa. Valorizza il tuo punto di vista. Non è un Soulslike ma è un Souls a tutti gli effetti questo. È un Souls... Ma Soulsborn sta per... Souls e Bloodborn Dark Souls e Bloodborn quindi adesso dovrebbe essere un Elden Soulsborn quindi è un Soulslike. No! Non è un Soulslike è un Souls a tutti gli effetti. Soulslike sono i... quelli delle altre aziende. Souls Ringborn adesso. Arca miseria. Ma quante ne... le ho trovate tutte le spade di Spinti Sponti. è un Souls Relay. Really? Non dimenticare Sekiro ma Sekiro non è un Souls. Eh ma è come dire che Dark Souls è un Soulslike. non... C'è... C'è una galera lì ci andiamo mo' eh? Prima finiamo di vedere un attimo qui. Pirla. Stupidi coglioni. Però questi qui sono gli stessi che erano al castello di Morn. Non è che poi è sotto sotto ritroviamo il... il moroso di Irina? Anche Metroid è un Metroidvania. Ma non è vero. Metroid sarà un Metroid e basta. C'ha Castlevania... Cosa c'entra Castlevania con Metroid? Cioè lì è ancora... è ancora... peggio in teoria. No Pokémon non è un Pokémon like è un... è un JRPG. Pokémon. Cioè dipende se si intende come cazzo scendo? C'è il modo di scendere qua. Si standardizza? Sì. Però mi sembra una gazzata. Cioè va bene standardizzare e usare in modo sbagliato le parole che poi prendono un altro significato di quello che vogliono dire per davvero. Però è più piccolo pare a me sta... ah vedi vedi ci sono i due goblin del culino. Osteria c'era un trick e track. Norca bestia come? chi è Godefroy? Che è un Recolor cioè non è un Recolor è Godric l'innestato semplicemente. Che cazzo mi significa? un attimo che mi rifaccio la stamaina eccolo eh sarà il fratello scemo? Era il fratello scemo? Momento demone della forgia blu? l'icona di Godfrey ma era Godefroy però questo no non è non credo sia non è Godfrey perché Godfrey è diverso proprio scusami scusami allora c'erano anche questo in tempi i cavali si speravano le sentinelle dell'albero il loro compito di proteggere i più vulnerabili anche per questo mi spaccano la faccia perché non sono vulnerabile vedi questo è un complimento icona di Godfrey leggendario talismano raffigurante lord ancestrale del Godfrey potenza dell'attacco caricato di stregonerie incantesimi abilità Godfrey è un guerriero feroce era un guerriero feroce quando si prefisse di diventare lord si mise sulle spalle la bestia reggente che era il leone Serosh per esprimere l'inestinguibile sete di violenza che ardeva al suo interno ma non è che il pescione nel coso delle radici era la bestia reggente la bestia però la chiamano come quella che è arrivata dal cielo è quella che dà i poteri al al lord ancestrale una volta morta la bestia reggente quella di Godfrey è caduta nelle profondità ed è quella in fondo al al castello di Godric mentre quella di Godwin è quella dove era vicina fia no i masnadieri ragazzi i masnadieri e i bastardi senza Godric guardate un affanculo eh sono qua di fianco all'ascensore sono a che livello sono ormai sono eh quasi 120 poi tutti i livelli che abbiamo li stiamo mettendo a cazzo perché non sappiamo più cosa merda a tirar su ma questo è un altro discorso stiamo tirando su arcano così perché ci va ok siamo semplicemente di sotto sono un sacco belli questi alberi eh però sono incastrati non abbiamo neanche mai visto ancora la zona quella che si vede nel trailer con la foresta con gli alberi grandi con sti tizi giganti che camminano ah ma aspetta no sono tornato qua io ma allora mi levo dal pippo perdonatemi ma che percentuale di main story sei e io che cazzo ne so scusami sì arcano aiuta al drop rate aiuta si sta facendo lo spuntino lui qui guarda un altro deturpato di merda un altro innestato lui tra l'altro ma ci lascia tutta storta poi ci lascia col manico storto scemo poverino quella quella però è una bella spata eh ah un calcio nel muso mi ha tirato che scambio che scambio di colpi che mossa era bottiglia di profumo ancora di profumo abbiamo trovato una ricetta e basta mi fa venire il pistolino duro però basta è l'ora di cambiare è l'ora di tornare alle vecchie abitudini è l'ora di tornare alle vecchie abitudini è un drop in un drop in un drop in un drop in un drop niente stronzo riesci a pariare con quello se è un eroe probabilmente no cioè sì nel senso io anche nei souls ho pariato sempre meglio con il perry normale che con il che con il brocchiere quindi sì però qui non ti dico niente perché ho fatto talmente pochi perry ho visti tutti turulenti di merda cutrescenti una spada di immanzik la prima difesa di leindel un patto di forza intimamente corrotto tracce visibili di una cospirazione sanguinosa una cospirazione quella delle lame nere una chiesa di marica quindi un potenziamento per le cose sembra molto ah ecco ah ecco cos'è un'illusione quella sarà per quella era una lore che non si erano caricate subito le texture ragazzi naturalmente no era chiaramente voluta la situazione era voluta perché essendo un pochino illusoria era chiaramente c'è lo zampino di Miyazaki oh avevo pestato uno scheletro c'era un ciglio di trina ma non mi va di girarmi andare a prendere quella preziosa rarità scendiamo va era l'or copium 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 viecqua lama di sangue bella madonna l'ho shottato con solo toccandolo con la spata parete invisibile sembrava sembrava bello gatto questo pc master is di merda ma ancora non l'han sistemato porca miseria su pc allora quello lì è bello grande è un troll col cappuccio voglio perriare il troll ragazzi osso scusa scusa no scusa scusa l'ha il pirla quello di prima che fa vabbè sta là non posso ragazzi è caduto questo lo perrio però non è servito niente a parte come la teneva la spada ma non mi colpisce questo salta questo non va bene dai questo non è ma sei finto ma secondo me sono finti alle mani bucate è che in realtà non voleva colpirmi forse non ci credo nemico debole sono effettivo perché cazzo l'ho shottato con un attacco leggero se te dimmi se mi sono messo a fare i perri a un'illusione no allora adesso non penso sia un bug questo penso che questo qui era voluto se in caso o forse no boh non lo so boh una miniera siamo fuori dalla portata del fuori però lo facciamo agglomerato di merda esplosiva aspetta che tanto le miniere sono tutte fatte con lo stampino Miyazaki eh ah bene anche i sassi di sapone le soapstone ma porca di una puttana porca adesso vado a vedere dove cazzo mi riporta ecco qua sto deficiente di guarda in realtà quasi andrei a esplorare la parte proprio di là dove non c'ho la mappa anche se la mappa era bella distante era lassù in cima però il fatto che là c'è la zona vulcanica mi intriga di più no 40.000 anima effettivamente non ce ne faccio un cazzo non so neanche metà livello non respawno si respawnano ah ma non sei aspettate già che siamo qui ma qualcuno che è arrivato in questa zona anche voi anche voi così a poi vectors si uguale anche te giallu te su pc giallu no che li shottavi ma non mi non mi fanno danno cioè non sono tangibili quindi sono effettivamente delle illusioni forse fa strano che sono scordati di programmare un cazzo di erano sopra le anime fammele prendere già che sia qua che paura di nuovo stava per succedere ma potevo accenderla grazie già che c'era metti che rimorivo anche perché si stavo per rifare lo stesso identico errore datemi datemi le pietre ah quella più cinque mi piace quella più cinque dammela prima sopra si sderrupa giù anche se no sono duri loro ok qua si trovano quelle di livello cinque no niente secret qua sopra non se lo aspettava lui maledetti cani smettetela orca bestia uhuu intanto il cane si è levato dalle palle ok abbiamo ripreso il controllo i perry fammi fare i perry scusami ho fatto tutta questa cazzata e poi adesso non faccio i perry non sono più abituato stai fermo tu che non ti posso fare i perry alla lanterna però niente allora troveremo un altro drago di merda qui dentro la miniera ma c'è il cane ma dove cazzo maledetto il cane affanculo andatevene ok mi serve eccola là dentro non mi ricordo se l'ho vista tutte e due mo ci guardiamo e che porca miseria non so che build fare mai dall'inizio alla fine martello del troll fatta nuova build no non è vero però magari si magari è incredibile martello del troll nelle armi colossali attrezza usato dei troll minatori per sgretolare la roccia è lo stesso che usa il troll fabbro per spadinare si tratta probabilmente di un antico strumento da forgiatura infatti cerimoniale dei giganti gli antenati dei troll nel lontano passato la forgiatura era considerata un'arte magica perché erano stupidi forse erano degli stupidi i troll si sa buona bene aspetta eh che qua c'erano altre strade ma porca miseria quanto siamo nei labirintici labirinti qua era chiuso perlomeno sopra si torna sopra sembole c'è un monte i minieri respawnano assolutamente no sarebbe uber easy ah però una boss è qua e di qua dobbiamo guardare anche la spada la spada del troll è verio la spadona del troll eccola qua d e di vero i giganti che lottano per l'albero madre nella guerra dei giganti lottano per l'albero madre della guerra dei giganti pur privi ormai del senno i giganti non si separarono ormai dalle loro spade ma ridotte. L'oro che un tempo le rivestiva è ormai scrostato. Erano placcate, che sfigati. Ah no, qui sono stato. Ok. La spada del trolley. Sopra c'era un'altra strada. Andiamola a fare. Qua sotto c'è il boss. Allora. Tanti bugiardo di Lyra. Ipom, grazie. Grazie per il supporto, belli. Vediamo qui che ci sta. C'è qualcuno che fa pissi pissi nelle orecchie. Ok, vabbè. Che sembrano buoni, però. Bisogna fare di prima. Bisogna anticipare di più. Bisogna anticipare. Per quello ci si trova meglio con il brocchiere, forse. Spade che hai? Dove posso trovarle? Si trovano in una carovana a Kylid. Ok. Qua era solo questo. Meglio a QC. Anche... No, niente qua dietro. No, da di là. Di solito c'è sempre il dietro. Ragazzi. Eh, vedete. Ricordatevi questo insegnamento di Achille. Il dietro è sempre presente. Luff. Luff. Boss. Segnate, mi raccomando. Boss solo di Perry? Dove si trova l'intro di Achille? Ancora un altro trollo. L'intro di Achille la trovate su Discord o sul nostro Instagram e TikTok. Perry, vai! Non me l'ha perriato. Peccato, eh. Ci riprovo. Questo non è perriabile, forse. Ho saltato, però. Ho saltato troppo presto, mi sa. No, scorreggia l'audio. Mi fa le patatine fritte negli orecchi. Vabbè. Dai, spacchiamolo, va. Purca merda. Come mai la fiamma scarlata della scarlume? È parriabile il troll? Boh. Ci ho provato. Non lo so se è parriabile. Non con un'arma così tanto grossa. No, perruzza. La frittura di Paranza. No. Devo riavviare l'elgato. Randello colossale. Uuuuh. Aspettate, va. E non lo so perché scorreggia. Perché ho l'elgato rovinato. Randello colossale. Slurpy, slurpy. Eh? Slurpy, do? Ghiabadabadoo, slurpy, slurpy, do? Dove cazzo lo trovo? Randello colossale. Ah, è questo, eh. Maledecto. Enorme randello di legno duro, duro, duro. Arma contundente che premia la forza briuta piuttosto che la destrezza. Brandirlo è considerato un grave sacrilegio. Poiché si dice che in realtà sia un ramo secco dell'albero Mader. Infuso col potere sacro e per questo indistruttibile. Eh no, Hulleflame. Il pisello ce l'ha piccolissimo, Achille. No, però è troppo... Non è troppo grezzo per Achille. È che non è più degno di un'arma... Dal potere aureo. Ma è intrigante. Eh, purtroppo ragazzi... È così che è andata. Si gratta un attimo il ciappetto. Andiamo verso il nord. Voglio ricongiungermi alla strada. Brandirlo è un sacrilegio, certo. Ma non è... Che adesso, no? Eh... Non è che è diventato... Coso lì. Non è che è diventato Germano Mosconi, Achille, adesso, eh? Ma Achille è passato al lato suo. Ma porca puttana! È qua, oh! What's the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ehi, ci abita qua. C'è una Grace qui intorno, così almeno pigliamo. Le armi che scalano con bonus A o B o superiori esistono. Di base... Ce ne sono pochissime. La maggior parte sono tutte quality. Ma questo dà morte? No, è sempre veleno, eh. Sì. È una città nella quale ci vive Shrek. Ha fatto... Ha messo su... Famiglia? Sì, che ha messo su famiglia. Nel senso, ha messo su un impero. Ha messo su... Più che famiglia. Mmh... Eeeh... Sto cercando una Grace Kelly Is it possible? Da qui si può interare Intanto Mentre qua ci sarà un'inculata E io ve lo dico E ci statue sono queste Ah vabbè Urca bestia Chi è? Signore del castellombroso Che fai? Urca bestia Ah ma porca puttana Ti faccio male però No la marcescenza Meti ma avete già rotto i coglioni Ammazzami guarda Ammatami Ammatami Anche perché ho finito le robe Ho finito le pozze Ho finito le pozze Magari è dentro È possibile sia dentro la La roba lì La come si chiama? Eh? Eh? Come si chiama? La Grace The Grace The Great Porca troia Guardate dove cazzo sono La Maria La Maria No la Maria Luke Non è la Maria Il castello ombroso No no se giochi in single player Non ci sono le invasioni Cobalt Ti possono invadere solo Se sei co-op O se utilizzi un oggetto Se utilizzi un oggetto Che ti permette agli altri Di invanderti Anche se sei da solo Altrimenti non puoi Vedo no Però Era lassù Noi dobbiamo andare di sopra Per proseguire verso sinistra Che vorrei andare dalla parte del vulcanus Adesso ci riprendiamo Ciò che è nostro Vediamo se c'è una graziella Magari là dietro E facciamo un po' di Don Matteo Qualche penna In giro per queste lande Comunque è tutto molto fighissimo Porca vacca eh Il world building Mi piace veramente tanto Di sto gioco È veramente figo Senti Ci c'è il chiulo Vieni qua Dai Dammene uno Ma che stronzo Questo non potevo Cacarlo Ma non mi scorreggiare in faccia Che maleducazione Forse quello non si poteva Questo si poteva Ma non te l'ho fatto Ma per educazione Naturalmente Eh fai le peruzze Dai Dai vè qua Che arriva anche l'amico gigante La weapon art Non credo sia perriabile Maledetto 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 Tu e il tuo stocco De merda Ah hai rotto i coglioni Ti hai allora Va bene Oh ma vaffanculo Guarda Che mi metti La merda Negli occhi Striscia Mirmecofila Maschera Di Marai Ice Veste Di Marais Arrivo eh Solo un moment Chiedo perdono Un attimo Adesso fa la retro Eh vieni il retro Ecco E che ormai You are pippons Dicevamo Proseguiamo La proseciatura Ma prima Vediamo Cosa cazzo Ci ha dato Ci ha dato Uno stocco Presumo Il suo stocco De merda Esatto La lama Grunale Marcescienza Scarlata Un'antica Credenza Di cui Malig Marais Di Castello Ombroso Fidipù Stronzimè Fu privatamente Seguace E che lo portò A trovare La sua divinità Personale Ah Mentadent Qui I marais Conducono Una doppia vita Da generazioni Rivestendo il duplice Ruolo di boia E cortigiani Di Castello Ombroso La maschera Riproduce le fattezze Del primo Della loro stirpe Buona Vabbè Qua era un'arena Per lui Per me Sei tornato Grazie Gokiuscias Sono adulato Vabbè Qua hanno sfunnato Un po' di statue C'è niente di particolare Faccio il giro E tutto Non è che frana E che fria Era un change Questo Lì si può andare Ma ti fa scendere Dal cammello Perché giustamente Sì ma è tutto Immerdato Qua Porca bestia Però non c'è una grazia Qui Quindi io mi ritraggo E che fia Sì Palese mur Illusorio No Era Miyazaki Che ci prendeva Per lo sfintere Scheggia E direi che qua Sarà una graziella Dall'altra parte Porca miseria Porca miseria Questi alberi De merda Altro amici Intanto io vi ricordo Che stasera Alle 8 Facciamo il formula 1 Quello Con le macchine Formula 1 Però The Italian Job Imola E Monza Stasera Il templio Della velocità E mezzo Poi stanotte A mezzanotte C'è il Moro by Night Con Continuiamo Marta è muerta Marta è muerta Vedere qua sopra Qua sopra c'è la Grace No C'è solo un pezzo di merda E nothing Grace Senti da me Eh Rompatemi i coglioni Il castello è sprofondato Nella gagga Proprio eh Dopo tutto questo tempo L'airbrack Fatevi limonare un pochino La Grazia sarà dentro probabilmente Ma io non lo voglio esplorare Mostro Cazzi Posto Vaffangulo Eh Miyazaki E metti Una bicicletta Fuori Un giglio di bisbis E anche un po' di droga Di erba Pic Pic Sneak Pic Andiamo a vedere prima Comunque prima a vedere tutto l'esterno Eh Sempre Un albero Rovinato Rovinato Quest'albero Io sono deluso Io sono deluso Sia chiaro Espongo qui la mia indignazione Sono deluso No No Miyazaki Don't break my balls Ce l'avevo fatta Merito il premio C'è uno col cappotto Di pelle qua Aspetta un attimo Li avevamo già visti Sti bastardi Sono quelli che fanno Eh mi bacia Quello dietro Vaffangulo Va Assecurato Mi mangia fuochi Sì Sì oggi Due ore di live Giusto Così due orette Diciamo due live Oggi Lissie Lissie Perché mi sono rotolato Vedi 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 Un quader Era un po' che non lo trovevamo Non mi dire C'è un'altra tomba Come quella Dove siamo Cicciati fuori noi Canzone da cambione Questo era Nascostino Questo lo perriamo Se non ci spacca le palle Ah ma è un profumiere Lui C'ha le boccette Tra le dita Le boccette Di profumo C'ha miseria C'ha miseria Loop Io perché mi metto a fare Queste sperimentazioni Se non c'è un luogo Di crazia Oh porca bestia Stavo per cadere Nel biuco Basta morire Basta morire Insomma Solo perché Vogliamo fare I fichi Noi siamo Chad dentro Vedi Eh Non siamo Chad fuori Cioè in realtà Siamo Chad fuori Dentro siamo Ognuno ha le sue Eh Vabbè le rune Non sono più un problema Ragazzi Penso di provare Questa tua Decisione improvvisa Di voler imparare A giocare Veramente Va va L'ho pure vista La Grace Era vicinissima Era Adesso moriamo Che paura Si sa mai Che con i danni Pazzerielli Di Miyazaki Allora In primis Si va qua Questa è la guida Del giocatore provetto Eh In primis Si va qui No Si fa di questo Poi solo dopo Si fa di questo Fium Miau Fium Le basi però Achille Dai E poi Si riposa di nuovo E ci si deve Trasporta via Perché Cazzo di giro Bisogna fare Per arrivare qua Da qui sotto Non ci si arriva Sopra Torniamo all'inizio Cioè per carità C'è la strada Quella dove c'è la mappa Che è in alto Però Allora A parte Che c'era una rovina Qua sopra Andiamola A Diturpare Di mazzate Eh Torniamo A giocare Come si deve Per favore Qui ci sono i semi umani Ma ormai siete Delle cose Da ignorare Voi Delle cose Soprattutto Ma del tizio Vicino alla mappa Non ci interessa Nulla alla fine L'abbiamo Ci abbiamo parlato Ha detto Eh Ho imparato Un po' di cose Però ancora Cioè Non l'ho trovato Il signor Mandzukic Ma vi date Le manate Pure tra di voi Della stessa specie Ma questo è piccolo Era un bambino Sento il rumore Ah 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 questa qui è quella Che scompare No scompare adesso Pirla Sceneri di guerra Schianto dello schiudo Ma Quando i capelli Se perdiamo i capelli È la fine Marca miseria Quanto lo carichi Oh E va E va un culo Va Gli ho sventolato Mezz'ora davanti Gli ho fatto prendere Il mal di gola Gli ho fatto prendere Gli ho fatto Talmente tant'aria Che senza La sciarpina Si è preso Il mal di gola Questo Ma che tiri I pippi Non tirare i pippi Una finestra Sul piripup Quanta dick Di roba Che c'è Porca bestia Andiamo giù qua Ah un boss Va bene Nostro Purca bestia Chi è? Ah ma è ammalliato Guardalo che è ammalliato Me l'ha tirata Nella faccia Ma sei pazzo Porca merda Oh c'è Sperta eh Eh Baha un culo Nemico Abbattantuono Quanti anni mi hai 8500 Che schifezza Però Top Eh Talismano Spada rituale Aumenta la potenza D'attacco Con i pv Al massimo Ah Se li avremo mai Pv al massimo Usati nei combattimenti rituali Che venivano disputati All'onore In onore Dell'albero madre Aumenta la potenza L'usanza Che era L'usanza Era già abbandonata I tempi del Re consorte Radagon Ma le arene In cui si disputavano I combattimenti rituali Sono tuttora presenti In ogni regione Sono le arene Quelle Dove c'era il Pottone Gigante Che che fa Ai Ai Ah siete gagati Adesso Adesso siete gagati Chiedete scusa Ad Achille Chiedetemi scusa Se non volete fare Una brutta fine Su Entrambi Non capisco Questa lingua Maledetti Non mi avete chiesto scusa Ci sono rimasto Molto male E di quanto aumenta Guarda Lo vediamo Lo vediamo subito Allora Così ho 826 di danno Voi non lo vedete Ma ve lo dico io Con questo 826 908 Con la vita Al massimo Di danno Sono delle cifre Che fanno girare La testa Il qua di sotto E dove eravamo spawnati Noi Con l'altro Tragitto Di strada Ah ma era Ma era dove eravamo spawnati Noi proprio con il Sarcofago abbandonato Si chiamava così Drago di magma Sì Dalla miniera Eravamo venuti su qua Porca bestia Che cazzo di indecisione E' incredibile E' incredibile sta zona Quanto non ci capisci un cazzo A un certo punto Dici dove vai Ma chi lo sa Decidi tu No non decido Io non decido un cazzo Qui non si può andare da nessuna merda di parte Chi è che mi ha aggrato Che non posso vedere la mappa Non mi fate incazzare Vediamo bene qua sotto Uh Quello là non l'avevo preso O si Si quello lì l'avevo preso Ragazzi che facciamo No le mappe ancora non le ho trovate Perché una mappa E' qua su Allora Per esplorare a modo Vado qua No secondo me dobbiamo esplorare Prima tutta st'area Quindi vado qui Vado qui e andiamo verso Nord C'è anche quella Quella roba di Marika Che non ci siamo andati Andiamo verso Nord Facciamo tutta questa qui In modo che arriviamo sopra Andiamo al ponte E facciamo questo Questo tragitto qui Questo è il nostro Metodo No la capitale Non l'ho fatta No non l'ho preso Quel Quel frammento di cacca buffa Laggiù Aspettate un attimo Fatemi fare una corsa Il ramoscello qua Non l'ho preso Lassù dietro Non ci siamo andati Perché noi qua sotto Siamo andati a destra A sinistra Non ci siamo andati Capitale credo che la farò Per ultima Cazzo la capitale Ok il rametto qua sopra Non l'avevamo preso E c'è anche una Grace Fiume Ci perdiamo di nuovo Eh sì Allora credo che il coso lassù Sia le miniere che abbiamo già fatto Aspetta un poco Uehi Ue come stai Mi Mi Millicent Cazzo lei era perdibilissima Non ci siamo andati Non ci siamo andati Non ci siamo andati Le lande dove si stendono oltre l'albero madre, a nord quindi sono, dove ci ha detto che troviamo anche l'altro pezzo di medaglione Ok, fa un culo a destra Voleva darti una mano, non ce l'ha fatta, no, purtroppo no Vai, ci va di qua allora, fa un culo Eh? Un mare di sburra? Volevo prima vedere una cosa Ah no, è un altro dungeon Ma che cazzo mi stai dicendo? Cos'è che è evocato qui il pir? Dove sei, marinaio? Marinaio, dove sei? Aspetta un poco che qui... Sì, devo star a nutire Eh, ma com'è? Questo non è tangibile Dov'è il barcarolo? Dove sta nascosto il barcarolo? Eccolo là Il merda Uevi è qua Non te faccio vedere io Aia Ah è duro questo Fa le penne? Aia le penne Aspetta E Sans? Cheat? Cheat a Sans? Questo è morto Questo mi ha rotto le palle Con queste frecce E basta Eh? Ma che cazzo? Ma è lassù come va a fangulo Evocazione di Tibia 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 perché sono scheletri Ah, qua è dove siamo cicciati fuori Guarda Ok Ok, qua è dove siamo cicciati fuori Dal biuco là di su Dove c'era tutta la lava Infatti qua sotto c'è una No Un'altra radice No Una grazia La radice mortale ce l'ha data Sì Ottimo stonks Quella cosa lì Ma dobbiamo andare a dare All'hommi merda Anche se essendoci il barcarolo Che va contro corrente Non credo ci siano Stanze Da lutare Vediamo un poco Se ci sono E basta eh Con queste cazzate della risurrezione Sono passate di moda Non fanno più effetto Ficca misera Ma mi Me ne futto Me ne futto Me ne futto Me ne vado da un'altra parte Qua dimmi che è chiuso Un giglio di pippo Un dungeon che indica lì sopra Tra l'altro Ah Eh Però non c'è che la dai Non c'è E' pieno Di rovina Eccolo qua Per me Un attimo eh C'ho da fare Ecco qua Pieno di stronzi E' bancholo Oh Quante chiavi ci sono rimaste Adesso ci guardiamo Ne abbiamo trovate comunque parecchie C'è sedici Ce ne abbiamo ancora Ah beh Ci abbiamo quello meglio Noi Non è che mi indicava quella stanza La statua Non penso Eccolo qua Quello che indica La stanza Vai Andiamo a fare queste catracompre Ora ma sono più rare le chiavi Rispetto ai gigli Sì Però non c'è mica scritto questo Eh Scacco matto Un livellino però possiamo fare Madonna Siamo al livello Sette miliardi Siamo Andiamo ancora su arcano Ma c'ha le stelline dietro da cowboy Ma che schifo Scusami Cazzo di stivali sono A sto punto A sto punto Eh Ah no Però Scontato lo davo Eh Ma porca troia Ma chi è Ma pure A spagare i coglioni così State Ma porca miseria Pure i fulmini Mo si mettono a lanciare Sti stronzi Come Abbastanza Si rotola Vattene a cacare Vattene Merdo Stretto Stretto Qui Claustrofio Roboco Guarda Vi lasciamo stare Non siamo interessati Però Mi ha fatto una sega Non mi ha fatto Mortacci tua What's the combo Mi ha fatto una combo Ho i fratelli I fratelli Derrick Lì Complimentazionamenti Scusami Prima come l'ho schivato Quel Quel budello Ecco dove era il secreto Va va Parete invisibile Questa Perché sono murate diverse Eh Perché sono murate diverse Ste pareti Vaffangulo Ma poi per una Cazzata Testa Di gaccio Questo l'ho schivato saltando Quello dietro Segnate Saltato Nemico Ottimo Lavoro Dovete segnare così Parca bestia Che non gli ha fatto il Perry Ha fatto l'animazione del Perry Ma l'ha Inchielato Purca puttana Che adesso fa male Sono tutto molle Mi fai male Con la currente elettrica Non lo sai Facciamo così E vado via il chap Che arrivano i bro Intanto Che mi arrivano così Bro Fratello Vieni qua Dammi una Che fa Ma poi scusate È venuto a Funzione sensori di movimento Ma per le gesture Basta Quindi se io lo tolgo Eeeh Vaffanculo Ma dopo 200.000 ore di gioco Me lo so ricordato così Scemo Non so ricordato adesso Dopo 700 ore di gioco Eh ma si può disattivare Tutte le volte che mi sono messo a sedere inutilmente Scorpione del fulmine Ma questo ce l'avevamo già È identico all'altro Scusami Del fulmine È sacro Ah riduce La resistenza ai danni Ma aumenta l'attacco da fulmine Ma Chi se ne fu Guarda Quelli con la faccia da pirla Ah ma te mi vuoi fare Però io ci arrivo di là Inutile che Che mi fai Scemo Ah ci sono anche di là Lui è diverso Siapevo Pezzo di cazzo Guarda quanto la carica Sono quasi morto Però No Hanno i due Ma non è diverso È che era il retro Uh Fanculo No no Si diceva diverso Invece E come Ti avevo promesso Che sarei tornato Per te Chi è che mi ha promesso Che sarebbe tornato Per me Tobias Grazie Grazie C'è un giorno Che i gargoyle piccini Compaiono nel cesso Di Miyazaki Per pungergli il culo Ma speriamo Ma speriamo Oh streghetta Oh streghetta Ah porca miseria Fammi passare Devo lutare Tutto quanto Apostolo del drago 1 Questo era buono Questo era buono Era Diverto Che diverti premere i pulsanti È molto divertente Tanto non mi fanno una sega Lo stanchino Aspetta A me ci stava un gargoyle gigante sotto 10 mm d'acqua No era sotto terra Non è che era sotto 10 mm d'acqua Scusa Anche te Eh Mi sembra ovvio Così ovvio Ma io non c'ho la luce dietro Non mi dite niente Eh Non mi dite niente Non c'ho la luce dietro accesa Appiccetta Porca bestia Allora Fatemi infilare Va Andiamo a fare questo boss Solo a Perry Chissà se c'è ancora qualcuno Che ci crede Faccia le cose solo a Perry Ah ma sei tu Con il fulmine nell'acqua Eh Ho capito Ho capito Dai Ancora ho detto Vi è qua Easy one shot Secondo me Secondo me era periabile Comunque Globo c'è in ora Della convallaria Mmm Mi serve quello Delle cose Non mi servono Queste cazzate Degli Spetri L'ho già maxato Che cose sono veramente Un incubo Sì Sono d'accordo Zio E' inutile E' inutile E' inutile che guardo La maps Io dovrei andare Verso nord Ma Da qua sotto E' da qua sotto Che vado Verso il nord Allora Qua c'era anche una Grace La ho fatto Monte Gelmir I nomi sono Fantastici Ho trovato Quello spadone A Kylie In una carovana Holy preacher Vuole un'oraculata Vediamo Vediamo Passerò L'esame Di fine mese Abbandona La lotta E cerca La meditazione Ostia Ostia Mi spiace Mi spiace Questa Questa era Un presagio Eh Questi sono Sassi Da raccogliere Vero Si No Piove dentro Il vulcano Porca Mestia Il geyser Uh Altra fiasca Ragazzi Tutti oggi Gli abbiamo trovati I semi Eravamo a 4 Con questo Mi pare di si Ma sentite a me Non mi rompete I gran coglioni Voi Oh Oh Ah no Pensavo fosse un mercante Ma vattene Naffanculo Vattene Oh Qui ce ne vogliono Due Ce l'abbiamo Hai vinto L'Elden L'ho vinto Gatto L'ho vinto Però Questo mi sa che è un dungeon grande Se sono due spade Secondo me Caverna di Terme La caverna delle Terme Qua se si fa Non si torna in Drio Ma che cazzo Ci fai qui Non lo sai Chi è richiuso dentro Al fine gatto Non li so fare I perri La caverna dei Termos Queste sagaci battute Mary Non mi vengono a me Ma mi faccio la male No è tutto merda Figurati Shittings Ah qui ci sono i funghisti Grazie Girottolo Vabbè Noi si corre Ah ma li avevamo pure Già incontrato Sti sono fabbic Ma che è Mi sgranocchiano Ma che rumori Brutti Ti ho chiesto dove sei Ma ci sono già Ah beh Adesso le Terme di Saturnia Mi pare queste E sti topoloni Vieni qua Bella topoloni Non l'ho preso Quello lì come ho fatto Ma chi sarà mai Andiamo a vedere Naikorchicus DB Naikorchicus 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 Giusto? Grazie per la sub Comunque Aiè Perca miseria Quanti Cosa fate qui? I rituali? Sono illegali? Che cazzo Che fa danno Anche a contatto Il veleno Mi sono un attimo Cagato nel pantalone Un secondo Rapidamente I conservanti Ma qui non mi servono Quasi Quasi Quindi Naikorchicus No Mi sono perso Naturalmente Sette volte Almeno Ah no Qui ci sono già stato Ci sono stato Da di qua però Cazzo Di strade Miaz Ma uno Come si deve orientare Ah no Semplicemente Sono tornato indietro Ma porca puttana Miaz Ma il gruppo Per le vocazioni Qual è? Sempre a La password Dici Sempre a kill Ma tanto Non la Non evoco Super i funghi Dai 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 Miaz Dai Mi si ha Forma di scaletta Mi illudi Guarda com'è Bello fluente Questo fluido Mi metti sempre Queste Incavature E poi Mi fa Incazzare Però c'è un oggetto Là dietro Sarà che È da sotto Che si torna L'ultima volta Che abbiamo trovato Un dungeon Del genere Ci tiravano Certe manate Gli orsi C'era Altra strada Non c'era L'altra strada Era una bugia Ah no Vedi Ma che figura Ma che figura Ah vedi Si sale Abbiamo trovato Qualche abilità Per l'arma Di oscura Presenza Devo guardarci Ma lo farò fuori live Quello Così vi faccio La sorpresina No domani No perché È sabato Basta Questi funghi Di merda Questi Come si chiamano Avete capito Insomma Opa la lai Avvelenami pure Avvelenami Chi se ne frega Del tuo veleno Merda Oh Fungomanti No Ti tiravano Subito però Porca bestia Corpo fungino Braccia fungine Tutta l'armatura fungina Ma che schifo Ma mi devo vestire Con quello che mangio È come se mi faccio Il vestito di bistecche Che tra l'altro Abbiamo trovato anche L'altro elmo lì Fungino Che era Spaccava la faccia Dark Raius Era Dark Airus Da provare subito Ma ci avete questi Fetish Dunque grazie D'Arkairus Per aver regalato A Muto Senshi La sub Lady Gaga L'ha fatto Il vestito di bistecche È vero Però non è che Ci andava a fare La spesa Eh Io così Ci vado a fare La spesa Oh che imbarazzo Scusatemi Eeeh Secondo me Lì sotto Parte la boss fight Quindi Track Track E si va Invece Dal macellaio Vestito di carne Non so Un rischio Grossissimo Però lo leggiamo Che sicuro È una di quelle armature Con gli effetti strani C'era anche la testa Di cazzo Mi pare Questi qui mi cagli Abbiamo letto D'altra volta Le corna Adorne Di germogli Anch'essi luccicanti Sono strumenti Da cerimonia Ideali per gli antichi Riti votivi Potenza Al teschio Di neonato Ancestrale Vabbè Eeeh Questa dove cazzo L'abbiamo droppata Ha le fattezze Di un sordido Vecchio Dal ghigno malvagio Il volto Ricorda gli spiriti Maligni Che tormentano I presi Vabbè Sì l'avevamo letto Mi sa poi Eeeh Ah era qua Era Coloro ormai Corrotti Dalla marcescienza Scarlatta Li considerano Parame Paramenti Sacri Che vincono Alla terra Stessa Dei paramenti Nel senso Di cose Che riparano Il mento Non ho capito Eh no Questo non può essere Un paramento Vabbè Non importa Ragazzi Forse Dei paramenti Voglio dire Qualcos'altro Intanto Ragigio chiede Altra partita Altro oracolo Questa sera Riuscirò a fare Gol Trasforma il tuo Lato debole In un punto Di forza Nel senso che Non sai fare Gol Diventa un Difensore Ma scusa Ma che boss Ma che boss Fai te Ma che boss Fai te Era questo Questa Questa Era una Presa Per il culo Aumento Aumenta la potenza D'attacco In prossimità Di avvelenamento Marce scienza Ok come l'altro Ma con l'avvelenamento La marce scienza Non ho detto Google Non l'ho detto Bruto scemo Di merda Veramente Una boss fight Del cazzo Questa Cioè Poteva mettermi Lo scherigno E basta Era meglio Bella raga Sono tornato Oh E allora Qui Non abbiamo la mappa Però verso nord Se si può andare C'è la strada Che è questa Quassù Merda Farfalla Naziente Non mi Ammortalizzate Per favore Non mi state buoni Niente Per andare Mi sa A prendere la mappa Bisogna per forza Fare tutta l'altra Mappa Trovano cazzi L'ho preso L'ho preso Sì Bella L'Islanda Però Mi piace un botto L'Islanda Sono vicino E' la villa Quella Non penso Però c'è una Grace Porca bestia No Perché la villa E' qua sopra Come in testino Post carciofi Ma i carciofi Non danno acidità Ma che fai Pazzo Fermo Mi sono seduto Allora Quindi questo è un forte Questo è un forte Voglio andare a vedere Però se si riesce A circunnavigare Per andare a prendere La mappa Perché Stanto Questa qui Era la via Comunque Per andare Alla villa Dal fondo Di Di culo Quindi Se andiamo A destra Secondo il mio Intelletto Superiore Dovremmo Arrivare A un punto Dai Oh La chiave Di Pietro Dai Oh Miyazaki Fammi andare Lì Ma perché Non mi ci vuole Mandare Sto pezzo Di merda Guardala Lassiu Era solo Una trollata Era No Non litigate Aia Quindi Quelli Della Rossa Della Fiamma Scarlatta Ci sono Qui Che invadono Il forte Di Ma non lo so Di chi è Dei due Là C'è Avel La rocca Però Questa volta C'è un martellone Veramente Rosso Ah il martellone Ah questo qui Si era visto In un trailer Mi sa Ho capito Ma se sbrodoli Continuamente Ah ma sei Segone Sei Bello però Bella idea Pastorale Dell'infierno Martello Di Smaug E Smaug Non è Avel È vero Avete ragione C E Uh Puro Forza Martello Con le sembianze Di una fiamma Inquieta Brandito Dai sommi Pelati Dei monaci Del fuoco Il suo peso Rappresenta La grandezza Delle loro Responsabilità Quanto pesa 23 Vabbè Come la mia Spada La testa del martello È praticamente solida I suoi attacchi potenti Possono scaraventare In aree i nemici E può essere potenziata Cazzo Questa viene potenziata Normalmente Non con le ceneri Di cisti Ma che cazzo È un'arma tutta unica È terrifica È bruttissima È veramente brutta Questa Esteticamente Penso sia Tra le armi Più brutte Del gioco Comunque Chissà Chissà Che la nostra Spada Fa un Danno La potenziamo Ma se ho detto Che è la roba Più brutta Che c'è Ma che Achille È estetica Sì Fosse stata nera Sarebbe stata molto meglio Sicuramente Poi non mi piacciono Le armi tutte così Sbudel Cioè È una cozzaglia Di È un mappazzone Come direbbe Bruno Barbieri Uh L'armaiolo 7 Cosa mi fai fare Armaiolo 7 Vasi incendiario Della fiamma gigante Addirittura Che sborone Spadone Sì L'abbiamo fatto Più 23 Oh Dormiande C'è uno scrigno Aperto Qualcuno Ha fottuto Qualcosa Maledetti Ladri Il mio tesoro Il mio tesoro Ah Ok So stessa roba Ma del fuoco E Sopravviverò Te lo assicuro Adesso tornerò A Villa Volcano Noi siamo qui Questo ci fa fare Il giro Ci fa fare Fium Ma se mi butto Ma se mi butto Memato Mi sa che c'è qualcuno Abbi 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 Babadula Araia Lucaria Ma non Niente Ma chi l'ha le braghe Sotto il drappeggio Beh sì All'armatura Cos'è che si sfuggi Si si Mi so le scarpe Perché si è stancato Di pestare la merda A piedi nudi E ho detto no guarda Posto così Cos'è qui eh Forte notte Perché fortnight Ah Quelli per la marci scienza Palesemente Non ho sbagliato colore Ma che fai Ma schiacci tutto Ma porca troia Il disliveggio E sicuramente Sopra l'abbiamo sentito L'abbiamo sentito lì Che abbiamo sentito sopra Cos'è che abbiamo sentito L'avete sentito voi Io mica ho sentito Un cazzo Abbiamo sentito Se hai sentito qualcosa Non è che Non è che era il fantasma Quello lì fuori Ma i sottotitoli Come il ladro parlava Ma non me li sono completamente persi Forse stavo guardando altro Ma porca troia Ma veramente Ero distratto Con la live Con la chat Non Me lo son perso Per davvero Adesso andiamo su E cos'è che dicevano Che non ho letto un cazzo E scusate Regas Perché non ho veramente letto Non mi sono accorto di una Pirla C'era dei sottotitoli Che dicevano Non mi troveranno mai Quando ti sei avvicinato Al forziere aperto Ma porca troia Ma veramente Adesso vado lì E ti trovo Allora Ora deve essere vicino Al forziere Deve essere O è il forziere Porca buttana No il fantasma Dice altro Dice Poi dove cazzo Era il fantasma Qua Il fantasma Dice Questo E basta Scusate Se non parlo Stavo facendo silenzio Perché Stavo cercando Di capire Se c'era un qualche rumore Però c'erano Solo i sottotitoli E allora Al baule Ci ho fatto una rollata Attraverso C'erano solo i sottotitoli Non c'era una voce Cioè Non si è sentita una voce Sul retro del castello Adesso vediamo Guardo Mi affaccio direttamente Da sopra Sono morto Non c'è nessuno Non c'è qua dietro Anche il fantasma Non si sente l'audio Però è un fantasma Vediamo Magari adesso Mi parla di nuovo Sei di nuovo Quick Che onda Morto Sì magari ora Ricarica Riappare Il tizio Quello che spero Anche io Ancora niente segreto Ma mi state prendendo Per il culo Adesso voglio vedere La clip Se non c'è Mi prenderate per il culo Mi ammazzo di nuovo Non so perché lo sto facendo Ragazzi Che voglio andare sul cornicione Per vedere meglio da fuori Ma sono stupido Purtroppo E E lo faccio E niente ragazzi La gravità La gravità Mi attrae anche All'insù No c'è Non c'è Non vi credo No Arcadia Subito Arrivata a insultare Eh Subito la grande Maleducazione Possono essere Quei cosi di legno Lì Arriva Fammela arrivare Di imperfa Gran cagone E non me la puoi Linkare qua Linkala su discord Lo vado a vedere Fatemelo andare a vedere Aspettate Clips Com'è certo Che ti prendo per il culo Stronzi Quando sono salito Le scale Non mi troveranno mai No ma deve essere Per forza fuori Non poteva che Cioè Non si sente la voce Sì Anche dopo Mentre ero vicino al baule Com'è qui sotto Le scale E Ma sulle torri non ci si può salire Anche di là Non ci si può andare Sarà fuori all'esterno Le torri le abbiamo già colpite Entrambe mi pare Eh Che voleva tornare A forte vulcano No Quello lì è un fantasma Come può essere la linea di dialogo di quello lì Scusami Eh din Per cortesia eh Adesso Adesso Qui avanti nemico? Boss fight nella lava? Vai Ma porca di una puttana Porca Vi è qua Il drago di Sve Ma non è Non è Orca bestia Non ha la stamina Ma per fortuna Eccolo Ma sì Facciamo così Facciamo Che è molto meglio Che il reposto Che non toglie un cazzo Chissà cosa ho ucciso Un cuore di drago Comunque qua Non abbiamo idea Di che cazzo Cercare C'era sto dialogo E poi ma Erano semplicemente Ci sono dati che avevano ucciso Qui va bene E fate Così tanto lontano Non può assolutamente essere Ora diamo l'esploratina Che Dobbiamo dare Che se no Ci perdiamo la roba Già Lu A questo punto Sì Perché non Non ho idea Cioè qui sopra C'era Il fantasma Controlla bene Dove Hai ammazzato Il drago Se sentivo la voce Così da distante Ma porca troia Achille dai No avrei controllato Dove Ho ucciso il drago Sono andato Sono venuto a ridare Un check Così Adesso Si sento un rumorino Aspetta eh Fammi fare un tour Faccio un attimo Un tour Un mezzo giro C'ho gli zoccoli Di titanio Vai tranquilli Vai Allora Allora Curo anche Torrents Questa è una mia Zaccata Delle palle Va che storia laggiù Dove abbiamo battuto Gli scemi Lo scemo Quello a cavallino Che faceva Più Più Facciamo incetta Va E se mi infilo Dentro uno di questi Cazzi Dove vado Boh L'altra roba Non so Come non c'è da me Sono inculato Gialluca Oh Qui una cosa Da far distruggere Un trulz Scusate Avete visto un trulz Aia Mortacci vostra Che cazzo Non avete lanciato Magma torbido Voglio vedere anche la mappa Vaffangulo E che cazzo Urlano Sempre Allora Quella merda Come la rompo Sarà un trulz Più in sopra C'è una casetta Anche qui sopra Di Shrek Andiamo a vedere Chi ci abita Eccolo Il nemico più forte Del gioco Ma l'è già rotta Posto Catroia 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 Goduria Goduria di droppis Arca Arca Buttana Aspetta che non c'ho la stamina Eh Non importa Va bene anche Uccidermi così Allora Ma porca di una puttana Che dolore Che dolore Dunque un po' fa il suo effetto L'armatura Madonna Che tedio Che tedio Ci sono troppi nemici Numero uno Di Achille Arca bestia Guardalo Io voglio Guarda Mi viene voglia Veramente Di imprecare Marica Guarda L'orso È veramente Fatto di Puss O magari adesso Che sono morto No sono morto Già due volte In realtà Non è vero niente Permesso Stavo guardando Se magari Invece Eh sì E non è il fantasma Luke Ma porca di una puttana Questi pezzi di merda Infami Bastardi Allora Adesso No Non ce n'è bisogno Dell'orso Possiamo bellamente Ignorarlo Sbattercene le palle Oserei dire Non ce l'ha mica Indicato Il me Poi dove cazzo era Ma da dove cazzo Arriva Un giglio Un giglio Di trina Ah Maledetti Alberi stretti Stai zitto Orca troia Non ci passi qua dietro Non ci passi Del Del Ma che è L'orsi Gli altri Hai chiamato Gli amici E qui Eh Sono morto Mi hai fatto morire Cosa c'è Dopo Dopo No Alle 5 Non si può Illegale Va bene Senti che Che brutte cose Che deve dire Una madre Al proprio figlio Mi ha fatto quasi piangere E poi mi ha ucciso Ha detto Se sei morto Non mi importa Questa è una brutta cosa Da dire Eh Perdo tutte le rune Se muoio di nuovo Adesso andiamo dritti E vaffanculo Non mi chiamo il telefono Azzurro No Non ce l'ho Il mio è Grigio Scemo Perché? Perché il tuo telefono è azzurro? Cosa vuol dire? Chiami me Opa Lai Da quand'è che c'è il telefono azzurro? Ma il 13 L'hai preso azzurro? Bello azzurro Bravo Ottima scelta Allora Allora qui ci sono molte peccure Chi è che urla? Il pastore Ma mi facci il Che figura di merda Guarda te E che cazzo Cor Ma sì Ma lasciamo ristare Questi voglio correre Mica ci attaccano Sono i motociclisti Che mi girano intorno Con la moto Sono Ma sì Ma non ci spostano nemmeno Andatevene Azzurro Andatevene Vabbè ma verde Fa schifo Gatto Terribile verde Vabbè stia Guarda come va Questa è un motociclista E li ha fatti fuori tutti lei Questa è un vero motociclista Ma è diversa Questa è tutta impazzita Pazza Forse E basta Un bel villaggetto Stiamo facendo un mezzo giro Cazzo di giro stiamo facendo Mica l'ho capito io Cappanna dell'eremita Cappanna dell'artigiano Cappanna dell'eremita Senza Senza grazia Vabbè dai Livellino Se troviamo una Una grace Ormai quella lì è distante Eh Ah no Orca bestia Vuol dire boss fights Viaggio Villaggio secluso Non ci sono una signora Uh Ma cosa mi ridà le fiasche Il messaggio valutato Mamma mia che rinvio lungo Che t'ho fatto Oh al volo t'ho preso Pirla Stregone errante Stregone errante C'ha la panza Lo stregone errante C'ha La cesto con la panza Escrementi dorati Achille Ancora Pensavamo di essercela tolta Quest'abitudine Ma invece Continuare a raccogliere Le robe Sei incantevole Ma era Scusami Ma la pietra di sei incantevole È palesemente Mike Vazowski Ma questo Ma che faceva qua Ah Us Allora Allora Là c'è quello grosso Che tanto Due manate E muore Non sarà lui La boss fight Dove hai scelter In Nuzlocke challenge È come funzione Siamo visti tutto Sì Non è che se può Entrare da qualche parte E ce lo siamo persi No No Andiamo a spaccare la testa Cos'è Lo baffa Regina Semi Maggi Con i Montociclisti Sono morti Aspetta che faccio Prima fuori Tutti gli ad E poi la facciamo Alla sborona Questa Eh Ho sbagliato Non volevo chiamare il cavallo Scusami Maggi Aspetta un attimo Ti mando il double Aspetta e ci penso io all'altro Non ti preoccupare Il mini me Ecco qua Adesso possiamo fare Quel che ci dobbiamo fare Devo togliermi i cucri Intanto Porca bestia Qui ci screpoliamo eh Adesso va bene Fargli sboroni Però Secondo me si può anche Periare Aspetta eh Vai Cleric beast Vai No Vai Vabbè Pensaci tu Achille Intanto io Inizio a esplorare Posto E c'è la grazia qua dietro No È grande quanto il duomo di Milano Embe Livellino Ormai siamo così potenti Che deleghiamo la potenza Agli altri Questo vinti di arcano Completamente inutile Siamo diventati Degli imprenditori Della potenza Ah Ah Però non credo sia Quello della foto A meno che la foto Non è fatta da lassù Lì c'è un albero Merda Lì sopra Dove non Riuscivamo arrivare Ma scusa Io qua sotto Ci muoio Ma non da lì sopra Voilà Questa è una Cripta Come quella dove abbiamo Iniziato noi il gioco Stagazzata Che piovono i lupi Io non l'ho capita Dove siamo rispetto ai dick Non lo posso vedere Giustamente Maledizione Fatemi andare lì dentro Che ci sarà Il falò Sede lo stregone erranti Dobbiamo vedere Sì Andiamo qui giù Oh quanto si endo Grazie Eccolo qua Qui c'è stato un altro Campione Dell'eroe di Gelmir Del monte Gelmir Sembra bello Pregno questo nuovo posto Allora Eh sì Sono quasi le 17 Direi Se non è Troppo Facciamo questo Dungeons Tanto volevo vedere Siamo qua Secondo me la parte sopra La si può fare Solo facendo di là E non è solo Facendo di là Facendo sta strada qui Sta strada Tutto qua nel mezzo Credo non ci sia Nulla di particolare In sostanza Se non i soliti Collezionabili Piccoli E robe del genere Qua c'è una chiesa Di marica Ci sarà una lacrima Qui c'è una torre Del mago Ci sarà un amuleto Di uno slot Qui c'è una miniera Qua ci sono delle rovine Qua potrebbe esserci Qualcoso di carino E dei balsami Mi bruciano i piedi Porca troia È come l'altro Babbato Ma chi te l'ha chiesto Perdonami Porca troia La gente non ce la fa È proprio deficiente No E vaffanculo Anche dopo un po' A spoilerare le robe Io non Non capisco Veramente Che problemi Ha la gente No Quella strada Si interrompe a metà Non scoprirlo tu Te lo dico io Fanculo Oh E quanti cazzo Di attacchi fanno Questi si Si ricosano Senza neanche Orca merda No Niente È andato quasi tutto liscio Ma eppure No eh Cazzo se si sblogga Quando torna indietro Quindi Chissà se in fondo Troviamo sempre il Il merda ulcerato Delle palle Qui conviene fare Con lo scudo Scusami Allora io vado di qua Adesso Buonasera E poi Sum Giù Atene a fare In culo Atene No però Ce l'aveva Lo stesso effetto Del È morto Torna Sus Ma che In culata Di merda No no Guarda Cold Kimo Non mi interessa Giocarlo Lo sto facendo In live Così solo Per le visuals Ho fatto veramente Un'inculata Quel cazzo Di merda Di coso Si accende anche Il led Da giù Dai Dai Ok 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 Quindi questo Quando va giù Invece Oh Eh mi spiace Mi spiace Qui non c'è Il trucco Sium Ah pure Proprio Tutto duro Qui Ma che vuole Questo Basta Che tu sei La balestra Che sciotta Fermo Mi fai paura Urlo Il nemico Numero uno Di Achille Orca bestia Non lo fare Oh Era Maledetto Nemico numero uno Di Achille È un sovraccarico Di nemici numero uno Purtroppo Achille È un cazzo Di casino Che paura È il fuoco sopra Mi sono gagato Adosso Eh ci sono diversi Numero uno Si Oh Permesso Secrets Secrets Sopra No Ma è sempre Lei Odoro scendere O salire Se salgo Muoio il 100% E mi inculo E mi inculo Mi sono inculato per sempre Scusami Eeeh E da lì come mi inculavo Sostanzialmente Ma come c'era una leva? Veramente? Non l'ho vista Ero troppo cagato addosso Sicuri? Perché ci rivado Però se... No, ma siete dei cazzi Andate nel vostro posto delle palle Andate Ecco adesso devo aspettare Che figura Di merda Vai lì vai Penso fosse Una torcia spenta Mi ricordavo che era figlio di puttana Non me lo ricordavo purtroppo Che era un sonofa bitch La gran cacca nel Grazie Unalips Benturnata Qui bisognerebbe usare il balsamo Quello che ti protegge Da un danno No, ne ha preso solo uno Uh Ma che mali piedi di gomma Aspettiamo che fa tutto il giro Ben bene Sium Siamo? Ah se sto cornuto Anche qui Eh allora È un problema Gatto qua No Orca bestia Il vero che c'è il nemico E smettila Stronzo Maledetto Bastardo Che lì è già passato Io di là non ci torno Fanculo Non ci voglio andare No ma non è per i perri Vabbè non importa gatto Adesso quello È il meno Poi mi alleno Per i perri Cosa cazzo ho raccolto qua Dai che non ci sto più con la crappa Che poi tocco lì E poi tocco lì Riattivo Fammi stare fermo Allora Sto deficiente qui C'è il destra C'è il destra La sinistra Chissà la cazzo di leva Cosa avete visto Sì sì Lunedì iniziamo la live Non si sbaglia un perri Aspetta Aspetta Stavo guardando Uh che pelo Non c'è il E come Allora Che sennò mi rompi le palle Fermo un po' Fammi vedere di qua Tanto quello là che viene tritato Continuamente Ok Devo andare giù E buttarmi lì Uh Che gioco di merda ragazzi Guarda che Cioè loro fanno Questa cosa qui Perché sono consci Del fatto Che il loro gioco Faccia cagare Sotto questo punto di vista Però pensano Che sia divertente No? Che la gente Se la ride Dice Ah 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 A volte Mi diverto proprio A fare queste cose Lasciami stare Cazwork E tu vai là Oh E fammi saltare E fammi saltare Cazzarola E ormai abbiamo masterato Però eh Ormai abbiamo masterato Va va Marca figura di merda Questo effettivamente È un po' periabile Adesso c'ho la paura Non sono allenato Eh qui han detto Però il platform Invece Invece hanno sbagliato Dai passa un po' Che urlo del muiz Se può È peggio di prima Effettivamente Perché adesso appunto Gatto è per quello Che adesso C'hanno la scusa No? Han detto Eh ma adesso Abbiamo messo il salto Lui è gross Abbiamo messo il salto Adesso Va che robe Che ti facciamo No non è vero Che è peggio di prima Comunque Ah ma sei Daryl Parca bestia Che figura Ah la corezza Del limiere Con sto muso lungo E cavaliere Di Gelmir Ah Allora Prima Finiamo sto Pustazza e merda Poi Chi è che ha fatto Stocca Chi è che rompe Tutto È Maleg Può darsi Sì Cioè io devo saltare Sopra qui Non mi dire Non mi dire Che Sono dei Ganzissimi Sono Ragazzi Non mi dire Cosa devo fare Anzi Se qualcuno Me lo vuole dire Tanto l'ho già capito Merda come mi ha spinto Via Liquido Eh ma come Ah devo buttarmeli di fianco Fium Va col mio motorino Ragazzi Eh Hanno messo le macchine Quindi Ma lì dietro C'era qualcosa Muis Maledetto Miazaki Maledetto me Che son più stupido Di lui Però Eh Io Guarda Veramente Potete Chiamarmi Scemo Potete Chiamarmi Scemo E Fammi Saltare Via Porca Buttana Porca Ne ho merito Grazie Arianna Non vedeva Cioè Aspettato Per scrivere Solo quello Muis Ehi al volo Maledetto Pezzo di cacchio Io ti faccio investire Ma quello C'ha una lapide Come scudo Spoilers Non devo Ma sì Ma per cortesia Arianna È iniziato da due Centimetri Qui Posso andare Ho paura Aspetto 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 ancora Ma Clippala Arianna Ti pesa il culo Eh Uh Apriti Sesano Che è che ha subbato? Grazie Buccio di mulo Veramente Gentleman Il merda è sopra Sì Che paura Che paura merda Che paura merda Ragazzi Che paura di merda Ho la cacca nel popò Uh Lasciamolo qui Lumiere Non si può Non si può clippare Se è arrivata dopo Ti guardi il past Clippi Quel momento Sì che si può fare Arcadia E La parte più difficile È questa Comunque Ma lì dietro C'è C'è un messaggio Però non c'è una Sega Uh che paura Che paura Uh che paura Aspettiamo che gira Adesso eh Eh certo Adesso Arcadia Non ti Nascondere Dietro Le necessità Come si dice Dietro Oh Scoreggia l'audio Fatemi Scoreggiare via Claudio Aspettate Voilà C'è la statua di magica Qui sì Più avanti Sarà qua sotto Apro eh Io apro Dietro la scala in basso Non c'era un passaggio Ho visto male Vediamo 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 Hai visto male Capita eh Oh my shit Statua di marica E boss più avanti Andiamo 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 Regaz Spada del Sium Eeeh Voto del Sium Boccia del Sium Eeeh Bomba del Sium Che se evoco Almeno la usa L'altro Evocazione Del Sium Ma sì Ma Ma che lupo rosso Del campione Ma è un pippone Ma che si sposta Cosa sono Di polistirolo Ste Alla spada Di Sif Ma t'ho Spaccato la Porca bestia Non mi son curato Perdonami eh Perdonami ma Ma seppure Baffato la spada Perché l'ho evocato Con già Baffato Ma se non gli fai Una sega Non gli fai Perché metà vita Perché l'evocazione Mi costa punti vita Non mi costa Mana Vai Achille del Sium Dammi il 5 del Sium Cavalier Limire Flo Ma chi Non lo conosco Beh almeno Non c'era quel Merdone di merda Non c'era Bono Adesso Gli andiamo ad andare subito Chiudiamo Facendo le ultime cosine Flo 3 set Il limire Stregone errante E pippo Vediamo Dai Chiudiamo con le letture Allora Le ceneri No Erano le ceneri Spirito del cavaliere Limire Noto come Randaggio rabbioso Attacca senza posa Non appena evocato Flo Aveva giurato Di servire Un unico servitore Un vero re E fu così Che il randaggio Rabbioso Non trovo mai padrone Che figura di merda Sto coglione Allora Allora Qua avevamo Anche quello di Marais No L'avevamo letto Quelli di Marais Quello col panzone Questo Dopo aver attinto Alla corrente originaria Questo silente Studioso Della stregoniera Venne indotto A scontrarsi Con il suo amico Vagram Si dice che Allora fu impegnato Nella rocca Della tavola rotonda Vagram Indossata da Willhelm Lo stregone errante Uno dei primi Senza luce A giungere Alla rocca Della tavola rotonda Azze Azze Una importante Poi abbiamo Quello di Gelmir Corazza dei cavalieri Un tempo fedele Al pretore Raiqard Raiqa l'emblema Ormai In disuso Di un lord Precipitato Dalle vette Dell'ambizione Agli abissi Della più Avida depravazione E un prete Di quelli Che conosciamo tutti Non credo Gatto Cioè la zona blu Sono stato nel Cioè nel sottosuolo Penso di averlo fatto tutto Poi non so se ci sono Altre milioni di zone Quando il loro signore Perse ogni dignità I suoi cavalieri Restarono senza padrone Peccato Peccato Privi dell'uso Del linguaggio Scelgono da soli Il proprio padrone Una volta Sono dei cani Praticamente Un cavaliere Resta fedele Fino alla morte Sono dei cani Dei canidi Vi trovano dei maghi O questo ho fatto Gatto Qua Ho fatto tutto Non è che siamo adesso qua Ok E non ha incontrato Sifettone E di lupi Ne ho incontrati Un botto Ne ho incontrati Ma Ma rosso Come questo Ah sì sì Quelli ne ho incontrati Questo qui È il quarto Tipo Però non avevano La spada Gli altri O non gli ho dato Il tempo Di tirarla fuori Di fare gli attacchi Così Comunque Andiamo Da Piero Qua Abbiamo due semi Da dargli Bella Brothers Due Siamo a Cinque O sei Pietra di Pietra di Gurrank Artiglio Ferino Ah sono le mosse Quelle che fanno I tizi Anche qua fuori No Credo di essere a sei Ormai non hai più il marchio L'ho dato a Fia Infatti adesso andiamo a parlare Anche con lei Prima di chiudere Mmm La foglia di Gurr Riseggia dalla sua natura bestiale Al pari della sua perpetua agitazione Nell'era antecentral Alboromade Le pietre furono No Questa qui L'abbiamo letto Questo Gurrank era una belba feroce Al punto di meritare L'appellativo di morte Dei semi dei Però non è lui Lui non è assolutamente La bestia Che è venuta giù dal Dal cielo Lui è qualcosa Che si è trasformato In bestia Riparla Non credo Ah fammi provare Ho visto che gli ho dato Due semi Vabbè Non me ne interessa Troppo Adesso poi ti fiderò E Fia Io non sono sicuro Che tu abbia fatto Tutta l'Iurnia È morta La tocco Ah no Sta respirando Però Non è morta Entrare nel sogno Di muerte Ragazzi Ditemi solo una cosa Naturalmente Senza spoilerare niente Una volta entrato Posso uscirne Subito Sta giacendo Con il principe di morte Ma avete capito Quindi Cioè Questo è Godwin Allora No non puoi uscire Allora Non oggi Sono qua dove c'era Fia Gatto Allora Allora Questa Sarà Il lunedì Sì ma minchia Ancora roba Direi che è un buon cliffhangers Che voglio sapere di più Su sti cazzo Di pescioni Di sirenoni Con la faccia Simpatica Non so come me la son persa Questa cosa Ci sono passato le ore E' una quest Questa Dura cinque minuti Non ho la zona Non l'ho vista No no Non entro Gatto Ah no no La zona non l'ho vista Vabbè No 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 Ma non entro Ragazzi Eh Non entro Non entro Basta Che poi Una cosa tira l'altra Questo gioco Non ci si può staccare Non ci si può Porca maledizione Non ci si può staccare Non ci si può Siamo mezz'ora fuori Siamo Da staccare le 17 Abbiamo fatto quel cazzo di dungeon Che mi ha portato via Mezz'ora Perché facciam cagare Però lunedì Si inizia con la lore Va bene Va bene tutto Ma oggi Si tira Fino che si tira Perché alle 8 Vi raccomando Vi raccomando C'è formula 1 The Italian Job The Florence End Va bene E poi ci vediamo E poi ci vediamo pure Stanotte con Marta è morta Che mi Piaceva un sacco Almeno visivamente Poi di storia ancora C'era solo una truffatrice Bastarda Quindi vedremo Raydino alla robia anche oggi Perché no Certo Perché no Come ti gira Marta? Eh Mi pare bene Ma avevano detto Che a te ti andava un po' di merda Però no A me mi andava bene Ciao belli Come si fa a partire qui? Click Ci vediamo Questa sera Un saluto E un A tra poco Mi sostanzialmente Ciao belli